Si sta aggiungendo al meeting, possiamo iniziare se Federico è d'accordo. Vedo che ha avviato anche la registrazione per cui vi ricordo che ovviamente partecipando al webinar ha consentito la registrazione dello stesso e quindi eventualmente nel caso in cui doveste intervenire tramite domande a voce o messaggi in chat, ha consentito appunto il fatto che possiate essere parte del webinar stesso e che quindi possiate comparire o tramite la vostra webcam o come messaggi nella chat del meeting. Direi che quindi iniziamo il secondo webinar del 2021. Vi do il benvenuto a nome dell'associazione GFOS e dell'associazione GEAM. Ringrazio Federico non solo perché oggi mi accompagnerà insieme a Stefano Campus in queste chiacchierate sulle tematiche di sistemi di riferimento e la loro applicazione d'utilizzo in ambito GIS, ma anche per tutta la fase di regia che come sempre è preziosissima e ci permette di poter svolgere questi webinar da appunto telematica, non essendo possibile un incontro di persona. Ringrazio anche Stefano Campus che sarà il terzo relatore, interverrà poi per farci vedere dopo la parte di Federico una serie di attività pratiche, di casi di studio, di esempi, soprattutto quello che vorremmo farvi vedere oggi cosa non si fa o su quello che vi suggeriamo di prestare attenzione. La parte del sottoscritto sarà forse quella un po' più noiosa, un po' più tediante, cercherò di rendervela meno pesante possibile, ma credo che una parte introduttiva un pochino più teorica senza stare a entrare nei dettagli delle equazioni che non ha assolutamente senso, non è certo questo l'obiettivo dell'incontro di oggi, credo però sia importante per cercare di provare a far emergere quelle che poi saranno le criticità che ci troveremo ad affrontare quando andiamo ad utilizzare da un punto di vista pratico queste tematiche e questi esempi in ambito del BIS. Prima di iniziare il webinar da un punto di vista proprio, chiamiamolo, ufficiale, quindi con la prima chiacchierata, vi ricordo sempre che faccio una brevissima introduzione sul perché esiste questo evento e perché questo è il secondo del 2021, ma non è certo il secondo di questo ciclo di eventi che sono iniziati a novembre e che finiranno a maggio del 2021. Questo evento rientra come quello della settimana scorsa nei cosiddetti workshop spaziali, cioè questa serie di webinar che sono svolti congiuntamente tra l'associazione GEM, che è l'associazione GeoResourceAmbiente e l'associazione GFOS.it. Non vi sto a riraccontare chi è GEM e chi è GFOS, perché ormai molti di voi come nomi ci sono certamente noti e quindi ci avete già seguito negli eventi ovviamente che abbiamo già svolto in queste tematiche, in questo ciclo di seminari. Quello che invece mi fa sempre piacere fare è ringraziare innanzitutto il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del territorio, delle infrastrutture, del Politecnico di Torino per il sostegno scientifico, per il supporto scientifico che ci sta dando, perché è sicuramente fondamentale e oltre loro voglio ringraziare anche tutti i relatori, ma non certo quelli di oggi, ma tutti quelli che hanno già fornito il loro tempo, le loro competenze, ma anche quelli che lo faranno in futuro, perché è un modo comunque per cercare di stare vicini, per fare, non dico formazione perché non è certo questo il nostro obiettivo, ma per fare informazione, quello che noi vogliamo fare non è certo andare a sostituirci a chi fa delle attività a scopo professionale, vuole essere un modo per, chiamiamo, ingolosire o comunque stuzzicare la vostra curiosità su delle tematiche che sono proprie delle tematiche che le associazioni in questione trattano, cioè l'utilizzo e criticità o applicazioni di software geografici free ed open source. Allo stesso tempo mi fa piacere anche ringraziare veramente di cuore il Master in G-Science e sistemi a pilotaggio remoto dell'Università di Padova, perché questo è fondamentale per noi, questo Master ci supporta tramite la possibilità di effettuare questi webinar con la piattaforma Zoom. Ovviamente ce ne sono tante, varie piattaforme possibili, questa è quella che ci permette di poter avere la possibilità di condividere questi eventi tutti assieme, quindi ovviamente grazie mille anche a loro. Vi ricordo sempre che al link che trovate in questa slide potete andare a vedere qual è l'offerta di questo ciclo di seminari che, ripeto, è iniziata a novembre, ma si protrarrà fino a tutto il mese di maggio 2021. Vi suggerisco di guardare anche perché potrebbero aggiungersene di nuovi in funzione anche delle vostre disponibilità, richieste, curiosità dei vostri stimoli. Ad esempio il webinar di oggi non era presente all'inizio nell'elenco dei webinar previsti, ma a seguito di una serie di stimoli che abbiamo ricevuto da partecipanti ai webinar precedenti abbiamo deciso di provare a raccontarvi qualche cosina. Ovviamente se qualcuno avesse intenzione, il piacere, la voglia di dedicare, di offrire un po' di suo tempo per un webinar su una tematica specifica ovviamente non si faccia problemi, ci contatti e cercheremo appunto di capire come e quando poterlo calendarizzare, perché ovviamente è sempre una cosa che ci fa molto piacere. Vi ricordo anche che la modalità di partecipazione è sempre gratuita, a meno che voi non richiediate il riconoscimento dei crediti formativi professionali. In quel caso lì è necessario un pagamento per tutta la gestione dei crediti da parte della segreteria. In tutti gli altri casi appunto la partecipazione è gratuita. Quello che vi chiediamo ovviamente è di interagire, non siate timidi, fate domande, chiedete, speriamo di essere sempre all'altezza, di fornirvi un periodo piacevole, che non sia troppo noioso. L'interazione è fondamentale anche perché è un modo per poter focalizzare meglio l'attenzione su alcuni aspetti. Ricordatevi che non esistono domande stupide e molto spesso la domanda di uno può essere la domanda di tante persone, per cui scrivete nella chat qualunque cosa vi venga a mente, non fatevi problemi e cercheremo poi ovviamente di soddisfare le vostre curiosità. Se la domanda dovesse essere particolarmente lunga, ovviamente ci sarà la possibilità di intervenire anche a voce. Se vi piace quello che stiamo svolgendo, fateci pubblicità, cioè iscrivetevi, seguiteci anche nei prossimi webinar, ma soprattutto passate la voce. Questa è la cosa fondamentale perché la diffusione di eventi come questo passa sicuramente in primis tramite la soddisfazione delle persone che partecipano ai webinar stessi, ma anche in funzione di quanto poi voi riuscite a coinvolgere i vostri amici o ai vostri colleghi. Se potete, quello che vi chiediamo anche è di contribuire al supporto di queste iniziative. Contribuendo in due modalità potete associarvi alle associazioni GEAM e GFOS. Ovviamente in questo slide trovate le modalità per contattare entrambe le associazioni oppure effettuare delle donazioni. Queste ovviamente ci permettono di far sì che questi eventi possano continuare a essere svolti. Vi ricordo che ovviamente tutti i relatori e tutte le attività sono svolte a titolo gratuito, quindi nessuno di noi prende dei soldi o comunque ci guadagna da queste iniziative, ma tutto ciò che noi incassiamo come introiti, sia in termini di iscrizioni, sia in termini di donazioni, viene totalmente riempiegato per il supporto di attività relative al software free ed open source, software geografico in primis. Quindi effettuando donazioni, supporto o partecipando a contribuire a delle spese che vengono effettuate per lo sviluppo e il miglioramento di questi software. Quindi ovviamente se potete le donazioni sono sempre ben accette. In quest'ultima slide trovate tutti i riferimenti di entrambe le associazioni, sia dell'associazione GEAM che dell'associazione gfos.it. Non fatevi problemi ovviamente a contattarci anche tramite email nel caso aveste bisogno di curiosità, richieste di informazioni particolari. Vi ricordo anche che se avete la necessità di ottenere dei attestati potete contattare la segreteria GEAM la quale provvederà poi all'invio degli stessi. Direi che non ho al momento altre cose, altre informazioni da darvi, per cui interrompo un secondo la condivisione e se non ci sono cose particolari direi che possiamo iniziare effettivamente con la prima parte del seminario di oggi. Come Federico vi ha messo in chat, ovviamente potete utilizzare il link per effettuare donazioni e vi ricordo, come ha fatto giustamente lui, che sono aperte le iscrizioni per l'anno 2021 per entrambe le associazioni, sia GEAM che Gfos. Vi ricordo ovviamente, qualora foste già soci, di provvedere al rinnovo della vostra, diciamo, status di socio e quindi il versamento della quota associativa per l'anno 2020. Il primo, il termine per poterlo fare, ovviamente prima lo fate meglio è perché questo ci permette appunto anche di avere una sorta di sicurezza economica, ripeto, per poter continuare ad effettuare eventi come questo, perché ovviamente tutto ciò ha comunque un costo, ad esempio la parte di gestione della piattaforma ci viene offerta dall'Università di Padova tramite il Master in G-Science, ma ci sono comunque dei costi, per dire, di gestione che comunque non sono certo banali. Detto ciò, direi che possiamo incominciare. Gianni dice che ha scaricato il modulo per l'iscrizione dal sito di Gfos, ma è un PDF non compilabile e in teoria no, dovrebbe essere un PDF compilabile. In ogni caso, basta che tu scriva un'email al sito info-gfos.it e tramite appunto il pagamento della quota associativa, che sia un rinnovo o che sia una nuova iscrizione, viene inserito all'interno della mailing list, per cui c'è una lista soci nella quale appunto si può dibattere di tematiche relative ai temi propri dell'associazione o anche effettuare richieste di informazioni. Questo vale ovviamente per Gianni, ma anche per tutte le persone che sono potenzialmente interessate. Detto ciò, direi che possiamo inizio a condividervi la presentazione di oggi, la prima parte della presentazione. Chiederei a Federico ovviamente di raccogliere magari le domande in chat e poi ogni tanto posso fare una, faccio magari una pausa, in modo da poter far sì che ci siano spazio per domande o curiosità. Se le domande dovessero essere, diciamo, impellenti o specifiche su una slide, non fatevi problemi a intervenire anche, diciamo, di persona tramite l'utilizzo del vostro microfono. Ok? In ogni caso vi chiederei altrimenti di mantenere il microfono in modalità muta per evitare problemi dovuti appunto a noise o disturbi delle connessioni anche dagli altri. Credo che la presentazione si veda, che non ci siano grossi problemi. Chiederei un feedback solo su questo. Confermo. Ok, perfetto. E allora direi, adesso io ho solo una piccola difficoltà perché ho un pezzettino che mi dà fastidio, ma niente, direi che possiamo a questo punto incominciare. Allora, il titolo, l'abbiamo visto prima, è Sistemi di riferimento EGIST, come muoversi. È un titolo, diciamo, un pochino che vuole suscitare la vostra curiosità e in particolare la domanda che uno si fa quando si scrive di cosa andremo a parlare oggi. Abbiamo cercato di suddividere la parte, chiamiamola un pochino più teorica, che è quella che, ahimè, terrò io per vostra sfortuna, cercando di non farvi proprio addormentare in tre parti un pochino più distinte. La prima è il cosiddetto problema geodetico, cioè come poter descrivere la forma della terra, poi come poter utilizzare ed esprimere le coordinate di un punto, quindi come poter determinare non solo la nostra posizione, ma anche esprimerla in una maniera univoca, e poi come poterla vedere sulla carta. E qui agganciandoci poi ai tutti i problemi che ci sono relativi all'utilizzo di software case. Ok? Questo è più o meno quello che cercherò di raccontarvi oggi. Nonostante sia il dopo pranzo, spero di non farvi addormentare. Allora, inizio, scusatevi solo un secondo, inizio già subito con un problema nel pdf. Va bene, questo è il bello, come sempre, il bello della diretta, perché io vedo una cosa e Zoom me ne proietta un'altra, che è sempre bellissimo. Spero che non ci siano grossi problemi ulteriori. Eccolo qua. Vediamo il perché e proviamo a ricondividervi lo schermo. Eccolo qua. Sì, adesso vediamo se siamo più fortunati. Quindi il primo problema che ovviamente è un problema che è già stato affrontato da anni e che in parte è stato risolto è quello di capire che forma ha la Terra. Ovviamente lo sappiamo bene che in prima appossimazione potremmo dire che la Terra è una sfera, in realtà quello che poi si è andato a capire col tempo, con le varie, con l'evolversi della tecnologia, è che non è una vera e propria palla, non è una sfera, ma in realtà è uno sferoide, cioè una sorta di pallone che è un po' schiacciato ai poli, un pochino più largo all'equatore, come se un ragazzino si sedesse su un pallone da calcio e quindi lo deforma leggermente. Quindi in realtà quello che hanno capito già da tanto tempo è che la Terra non è rotonda. In realtà poi non è proprio così vero, nel senso che a seconda di quello che noi vogliamo, di come la vogliamo considerare, potremmo anche dire che la Terra è rotonda. Quello che ovviamente dobbiamo sempre chiederci è per quali applicazioni noi stiamo cercando di approssimare la forma della Terra. Quello che possiamo di certo affermare è che la Terra non è piatta e quindi tutta la parte relativi ai terrapiattisti esulerà da questa presentazione. Il fatto di capire per quali applicazioni noi vogliamo approssimare la forma della Terra è una cosa che molto spesso viene trascurata o che viene tralasciata, ma che non è certo banale. Perché se io provassi a chiedere a uno di voi che forma la Terra, voi potreste dirmi, beh, può essere una sfera, uno sferoide, potrebbe essere una palla, potrebbe essere un po' tonda, un po' di più o un pochino di meno. In realtà, se poi vi chiedessi, beh, ma dal punto di vista professionale, come potreste approssimare la forma del territorio, quindi non della Terra, per gli scopi professionali, beh, voi potreste darmi delle risposte che sono sicuramente diverse. Ho provato in questa slide a riassumere le quattro tipologie di approssimazione della superficie terrestre, a seconda appunto delle vostre, dei vostri possibili scopi ed applicazioni. Eh beh, se noi fossimo in un'area decisamente piccola, molto ristretta, noi potremmo approssimare la nostra superficie di interesse con una superficie planare, cioè con un piano. Questo vale ovviamente in pochissime condizioni, per le cosiddette cartografie a grande o grandissima scala, quindi per aree di piccole dimensioni e per rilievi prettamente ingegneristici, ma sicuramente molto, di estensione molto limitata. Vale, da un punto di vista planimetrico, per la componente altimetrica, questa qui è una, diciamo, un'approssimazione che assolutamente non è considerata legge. Dopodiché, se io provassi invece a chiedere a un bimbo, potrebbe, lui potrebbe dirmi, beh, è una palla, quindi una sorta di sfera, quindi in realtà è un'assunzione abbastanza corretta, anche da un punto di vista professionale, nel momento in cui noi andiamo a effettuare analisi, ad esempio analisi geografiche o analisi per cartografie a piccola scala, dove le accurateze richieste non sono particolarmente elevate e quindi per dei rilievi di cosiddetti media accuratezza, noi potremo approssimare la Terra con una sfera, o ancora meglio detto uno sferote. In realtà quello che però tutti noi sappiamo è che anche la sfera non è una buona superficie che ci approssima la superficie terrestre, per cui da una sfera passiamo al cosiddetto elissoide, cioè che viene ormai abusato come termine, perché da quando sono entrate in uso le tecniche di posizionamento satellitare, qual è il GPS, tutti noi sappiamo che per approssimare la superficie della Terra da un punto di vista planimetrico si utilizza l'elissoide. Ci serve per rilievi di media o elevata precisione e viene utilizzato per calcoli di rilievi geodetici e per la determinazione del posizionamento tramite satelliti GPS o GNSS. in realtà la definizione più corretta sembrerebbe essere invece quella non dell'elissoide ma del geoide, che viene utilizzata fino ad oggi per la determinazione della componente altimetrica e ci serve per calcoli geodetici con elevate accuratezze. vediamo che quindi abbiamo in realtà quattro possibili scelte. Ci fermiamo qua? In realtà no. Vedremo che poi alla fine proverò a proorre l'accento su un qualcos'altro che ci permetterà di descrivere forse ancora meglio la componente della forma della Terra. Ma al momento fermiamoci un attimo qua. Allora, quello che uno si dovrebbe chiedere è qual è la superficie migliore. In realtà provo a cambiarvi la domanda. Cioè il vero problema non è come approssimo la Terra, ma il vero problema è il cosiddetto posizionamento, cioè la determinazione di un punto nello spazio tramite delle misure. Ormai tutti noi siamo obbligati, volenti o nolenti, a effettuare misure e a rappresentare la posizione di un oggetto, di un corpo, nello spazio. Questo deve essere fatto assolutamente in maniera univoca. Cioè la posizione di un punto non può essere demandata a qualcun altro senza dargli un insieme di regole. E quindi è necessario fare quello che si chiama la definizione di un sistema di riferimento. Se io vorresti provare a raccontarvelo in maniera molto spicciola, molto banale, la definizione di un sistema di riferimento è come definire l'insieme delle regole del gioco alle quali noi stiamo giocando. Cioè io vi dico quali sono le regole, dopodiché note a tutti si inizia a giocare. Essendo regola, le regole devono essere univoche, cioè non ci può essere dubbio, non ci può essere criticità dal punto di vista dell'interpretazione e devono essere valide per tutti. Cioè devono essere chiare, scritte e interpretabili da chi è. Per poterlo fare io devo fissare i gradi di libertà del problema. Cioè devo capire quali sono, in funzione dell'applicazione che vado a analizzare, quali sono i possibili movimenti del corpo nel piano oppure nello spazio B o tridimensionale. Allora i gradi di libertà, i cosiddetti in inglese DOF, degrees of freedom, nelle reti geodetiche terrestre ma molto più semplici nel posizionamento, sono in funzione della tipologia di applicazione che vado a considerare. In un caso monodimensionale, come potrebbe essere quello di una rete di livellazione, quindi per la componente verticale, vorrebbe dire andare a fissare lo zero, cioè il valore zero per la parte verticale. Quindi il grado di libertà è unico ed è il problema della determinazione dello zero e della sua relativa traslazione altimetrica. Cioè definito qual è lo zero e qual è l'unità di misura, io sono in grado di esprimere in maniera univoca, ad esempio, l'altezza di un punto rispetto al valore di riferimento. Nel caso planimetrico, i gradi di libertà diventano tre, è perché il mio corpo nello spazio potrebbe, scusate, nel piano, pardon, può effettuare due traslazioni lungo una componente, ad esempio, X, una componente Y e una rotazione. Quindi per le cosiddette rete planimetriche io ho tre gradi di libertà dove devo andare a considerare non solo delle componenti lineari, quindi gli spostamenti orizzontali nel piano, ma devo anche tenere in considerazione un angolo che è il cosiddetto angolo di rotazione. Quindi ho tre gradi di libertà. Se mi sposto dal piano allo spazio, i gradi di libertà aumentano e diventano sei. Ho le tre traslazioni, una per ogni asse, e tre rotazioni, una per ogni, diciamo, una rotazione attorno ad ogni asse. Ovviamente gli assi devono essere mutualmente ortogonali a due due. e quindi il problema continua a complicarsi maggiormente e ad aumentare di complessità. Questo ovviamente è fondamentale perché a seconda della tipologia di problema che io voglio affrontare, devo scegliere una superficie di riferimento e quindi devo definire un sistema di riferimento differente in funzione delle applicazioni che voglio considerare. Allora la domanda che ci facciamo a questo punto è bene, ho capito quali sono le regole del gioco, le posso definire, so cosa devo definire, come vincolare in maniera univoca questi criteri e come posso però rappresentare la superficie terrestre? E questa è una domanda assolutamente non banale perché se io volessi provare a rappresentare la superficie terrestre con un'equazione analitica è una cosa che non vi dico che sia impossibile ma poco ci manca. O meglio, un'equazione magari la posso anche scrivere dopodiché un conto è scriverla, un altro è risolverla. E' praticamente impossibile andare a definire angoli, distanze e volumi senza andare prima a definire le regole del gioco, assolutamente, ma anche una superficie di riferimento che sia quella che mi permette di passare dalla realtà come noi la percepiamo, cioè da quello che c'è effettivamente sulla superficie terrestre, come vedete in questo slide qua, ad una superficie che sia una carta. Perché poi in fondo quando noi utilizziamo dei GIS questo è il nostro obiettivo. vogliamo passare da un qualche cosa di tridimensionale ad un qualche cosa di bidimensionale. Questo è un problema assolutamente non banale. Come poterlo fare? Beh, la prima approssimazione che tutti ormai sarebbero in grado di dirvi è beh, io proietto i miei punti in maniera ortogonale su una superficie ideale. Qual è la superficie migliore? Beh, tutti ci diranno ormai, è il geoide, l'abbiamo visto anche prima, è una superficie che ci può servire sia per la planimetria sia per l'altimetria, diamo per scontato, scegliamo quella. In realtà tutte le volte che noi facciamo un'assunzione di questo tipo, cioè passiamo dalla realtà ad una sua semplificazione, quindi ad una sua proiezione, dobbiamo semplificare ciò che noi intendiamo, ciò che noi vediamo, e lo possiamo fare tramite alcune ipotesi, alcune condizioni iniziali che non sono per nulla banali, che non possono essere trascurati. Allora, quello che uno si chiede è ma cos'è questo geoide? Allora, se noi lo volessimo leggere su un libro, lo sapete meglio di me, è quella cosiddetta, quella superficie equipotenziale della forza di gravità, passante per il livello medio del mare inquieto, depurato dei moti ondosi, insomma, la definizione inizia a essere più lunga di quello che potrebbe starci in questa slide, ma da un punto di vista pratico io vi direi, beh, è un solido teorico che rappresenta idealmente la Terra e che è funzione di una cosa sola e soltanto, che è l'unica cosa che noi sappiamo misurare senza grossi problemi, che è la gravità. Cioè tutti noi, anche un bambino, è in grado di capire che se piglia un oggetto e lo lascia cadere, questo oggetto cade e cade seguendo una direzione specifica che è quella della gravità. La gravità è ovviamente regata a una forza, la cosiddetta forza di gravità, che è una forza che è continua, non è costante assolutamente, ma è continua. Ed essendo continua si dice che ammette potenziale. Allora noi abbiamo due forze che potremmo considerare, cioè la nostra forza di gravità si può scomporre in, diciamo, si può considerare parte di una forza di potenziale W che è composto da due componenti principali. La componente gravitazionale, che qui vedete espressa in W, giuro che non entrano nei dettagli perché purtroppo già solo i miei studenti iniziano a farsi calare la palpebra quando faccio vedere slide del tipo, tipo questa, ma teniamo presente che è un'equazione non certo semplice e poi una parte che è relativa al potenziale centrifugo. Dove sta il casino? Il casino sta qua dentro perché a meno di entrare proprio davvero nei dettagli, dentro al potenziale gravitazionale ci sta la densità della Terra, che vi dicevo non è assolutamente costante, e soprattutto ci sta il volume della Terra, che è una delle cose più complesse che un ingegnere o uno scienziato possa calcolare. Soprattutto perché è un'equazione integrale, quindi dovrebbe essere calcolata per vie infinitesime su tutti i punti della Terra. Non vi sto a tediare su come la si risolve, vi dico solo che questa W è una funzione, si può essere considerata e calcolata tramite funzione armonica. E quindi possiamo sviluppare questo pasticcione qua, questa serie di simboli strani, in una serie di armoniche sferiche. Voi mi direte, ma a me cosa me ne frega in tutta sta storia? E soprattutto cosa c'entra con i GIS? Perché poi, ricordiamoci che non stiamo facendo una chiacchierata sulla geodesia. In realtà c'entra perché, io ho appena detto che il geoi dovrebbe essere la superficie migliore, quella più interessante, quella più bella di tutte, quella che mi permette di minimizzare gli errori di proiezione, di rappresentazione della Terra. Allora io vi dico, beh, siccome quella di prima, la parte di W era un'equazione dove noi avevamo un integrale triplo sul volume, io potrei dirvi, beh, spezzettiamola in due parti. Se io la sviluppo in serie armoniche, beh, posso scegliere un ordine al grado di sviluppo. Se io mi fermo all'ordine e grado 2, ordine 2 e grado 2, io riesco a esprimere W in due componenti. una componente che chiamo W', che è una componente, diciamo, relativa all'ordine e grado 2, più tutta una parte che è il resto, perché ovviamente, vi ripeto, essendo un integrale non lo posso risolvere in forma chiusa. Allora, tutto quello che è superiore all'ordine 2 lo vado a buttare dentro a questo tipo, che è, cosiddetto, il potenziale anomalo, cioè il potenziale residuo di ordine e grado superiore a 3. Voi mi direte, beh, bravo furbo, che cosa hai fatto? Hai solo trovato un escamotage matematico. Sì, è vero, un escamotage matematico, ma permettetemi di prendere questo W e di andare a sommare la componente W piccolo. Vi ricordo che W piccolo era la parte dell'accelerazione centrifuga. Se io sommo queste due parti qua, le metto in una nuova variabile che chiamo U, questa parte qua è cosiddetta il potenziale normale. E allora io scopro che il potenziale di gravità W è dato da U più T, dove U è il potenziale normale e T è il potenziale normale. Voi mi direte, cosa me ne frega di tutta questa roba? Mi interessa perché se io scelgo una superficie U uguale a U0, cioè una costante, io quello che riesco ad ottenere è la cosiddetta equazione dell'ellisone. Ovvero vado a legare un qualche cosa che era funzione della gravità ad un qualche cosa che di per sé è molto più semplice da esprimere matematicamente, perché vi ripeto, questa non la posso risolvere in maniera analitica. Allora, un'approssimazione è quella di dire finché riesco a farlo in maniera semplice, questa equazione la risolvo e risolvo U. Tutto quello che mi resta più complesso lo butto qua dentro in T e rimane tutta la parte di potenziale anomale. Allora, una buona approssimazione per la componente planimetrica è sicuramente l'ellisone di rotazione, la cui equazione è sicuramente più facile. Allora, vedete che lo sappiamo tutti com'è fatta l'equazione dell'ellisone di rotazione e leghiamo questa equazione, che è un'equazione puramente matematica, ad un qualche cosa che è funzione della componente di gravità. Vi ricordo che U era il potenziale normale che abbiamo calcolato prima. Allora, io riesco a fare che cosa? Riesco ad esprimere la componente dell'ellisone ovviamente dandogli non solo un significato matematico, geometrico, ma anche un significato fisico, ok? Quindi vado a definire quel parametro che è gamma che viene detta gravità normale. Allora, io sono in grado di fare che cosa? Di dire, beh, la mia componente di gravità G, la mia forza di gravità G, sarà data dalla somma di due componenti, una parte che sarà la gravità normale, che è quella che noi possiamo ipotizzare essere pressoché media su tutta la parte del globo, più una parte che è la cosiddetta delta G, che viene detta gravità anomala. Questo mi permette, da un punto di vista ingegneristico e scientifico, di andare a considerare l'ellisoide come una buona superficie per approssimare le componenti planimetrici. Sicuramente non quella altimetrico, perché vi ripeto che le approssimazioni che stiamo facendo non sono assolutamente accettabili da un punto di vista altimetrico. Bene, siamo giunti quindi al punto di capire che per la planimetria quantomeno noi possiamo utilizzare l'ellisoide e quindi qui iniziamo ad avere un problema disgiunto. Il problema di planimetria è un problema di altimetria. Focalizziamoci sulla parte planimetrica. L'altimetria la vedremo in seguito e vedrete che sorgeranno ulteriori problemi. Per la planimetria, quindi, usiamo l'ellissoide. Quanti ellissoidi esistono? Beh, ne esistono infiniti, perché ovviamente se voi fate cambiare il parametro A e il parametro C che sono il semiasse equatoriale e il semiasse polare, ovviamente abbiamo numerosi o infinite possibilità di sviluppare questi ellissoidi. Mi permetto solo di focalizzare l'attenzione su due tipologie di ellissoidi o due famiglie di ellissoidi, cosiddetti ellissoidi geocentrici o globali, quelli che permettono di approssimare a livello globale la superficie terrestre, e gli ellissoidi con orientamento locale, ovvero quelli che mi permettono di andare a fare sì che io riesca ad approssimare in maniera migliore una sola piccola porzione della superficie terrestre, perché io magari sto lavorando a livello locale. L'elissoide locale, lo vediamo meglio in questo disegnino qui, meglio non lo so, spero di sì, è un ellissoide che ha un punto convenzionale che viene detto punto di emanazione nel quale lui è tangente al geode, ovvero dove la differenza, la distanza tra ellissoide e geode è zero, oppure è un valore che comunque viene considerato. Vi chiedo solo di spegnere, c'è qualcuno che ha ancora i microfoni aperti? vi chiederei di disattivarlo cortesemente. Solo perché vedo che anche in chat qualcuno scrive che ci sono dei... Sì, sto cercando di mutarli. Poi chiamo la farmacia per per essere arrivato il suo farmaco. Ok, grazie Fede. Cerchiamo solo di capire chi è. Poi lo che non sono io. Va bene. Comunque, il discorso è appunto questo, quello di andare a definire un ellissoide locale e vi ricordo che è locale perché in un punto che viene detto in emanazione l'ellissoide è tangente al geode. Ok? E non solo viene effettuata questa assunzione, ma viene anche vincolato l'azimuth al fine di evitare la rotazione tra le due superfici. In questo caso, il centro geometrico dell'ellissoide, questo punto qua, non è assolutamente il centro di massa della Terra e soprattutto l'asse Z non è l'asse di rotazione terrestre. Questa, soprattutto questa seconda assunzione è un'assunzione che ci porteremo dietro e che sarà valida non solo per gli ellissoidi locali, ma anche per gli altri ellissoidi detti ellissoidi geocentrici. Anche in questo caso vedete che l'asse Z non sempre corrisponde con l'asse di rotazione terrestre, ma corrisponde all'asse medio di rotazione terrestre. Questa è una finezza sulla quale permettetemi di sorvolare quantomeno in questa chiacchierata qua. In questo caso, nel caso dell'ellissoide geocentrico, il centro geometrico coincide con il centro di massa. Perché è importante questo ellissoide? Beh, perché è fondamentale, non solo importante, ma è addirittura fondamentale per il posizionamento satellitare, perché ci permette di esprimere la posizione di un nostro utente, di un punto, tramite l'utilizzo di satelliti che stanno orbitando al di fuori della superficie sulla quale noi viviamo. Quindi stanno orbitando magari non solo nella nostra atmosfera, ma permettono la determinazione di punti tramite dei satelliti che stanno parecchio distanti da noi. Vi ricordo solo, per curiosità, che i satelliti GPS orbitano in media 20.200 chilometri di distanza dalla superficie terrestre in media. Bene, una volta che io ho determinato il ellissoide e diciamo ho capito che questa è una superficie molto buona per poter andare a determinare la posizione di uno dei punti, posso andare a esprimere le coordinate del punto stesso e lo posso fare, lo vedremo poi un pochino meglio in seguito, tramite due tipologie di coordinate, le cosiddette coordinate geocentriche o ellissocentriche, cioè le coordinate x grande, y grande, z grande, e qui mi scuso se troverete un paio di slide in inglese, ma diciamo sono slide che vengono utilizzate in maniera abbastanza diffusa, quindi i termini sono, credo, spero, abbastanza complessibili, cercherò comunque di raccontarveli, e poi le cosiddette coordinate geografiche, cioè funzione di latitudine e longitudine che si basa sulla definizione di meridiani e di paralleli. Ora, su questo permettetemi di non entrare nel dettaglio perché sono concetti che io presuppongo siano assolutamente noti a tutti voi, se poi c'è qualche curiosità o qualche dubbio ovviamente ben disponibile nel chiarire. Vi ricordo che sebbene x, y e z abbiano come unità di misura metri, esprimere la posizione di un punto con queste coordinate è altamente complicato e quindi e quindi tendenzialmente è una qualche cosa che non si suggerisce di fare nemmeno in ambito GIS, ok? Esprimere la posizione di un punto in coordinate geografiche ovvero latitudine e longitudine e vuol dire esprimere la posizione di un punto con un'unità di misura in termini di gradi nuovamente altamente complesso perché? Perché se io devo determinare la distanza tra due punti e lo esprimo in coordinate geografiche capite benissimo che non è una cosa banale. Federico nella seconda parte di questa chiacchierata ci farà proprio vedere una serie di esempi che diciamo ci chiariranno ancora meglio le criticità di questo sistema di coordinate perché ovviamente vedremo che un grado o un primo di latitudine o di longitudine può avere valori diciamo significati metrici un pochino differenti ma non vi anticipo bene quindi a questo punto ho capito che per rappresentare la Terra posso scegliere due superfici di riferimento l'elissoide e il geoide allora se di geoide per definizione ce n'è uno che è quella superficie equipotenziale che passa per il livello medio di mare inquieti depurato di molti ondosi e bla 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 per elissoidi io non ne ho infiniti e quindi qui si inizia a creare un po' di problemi perché ad esempio se io scelgo due elissoidi diversi io esprimo le componenti planimetriche in due modalità diverse due elissoidi diversi possono avere due differenti origini anzi hanno sicuramente due differenti origini due differenti forme e guardate che se voi banalmente confondeste un elissoide con un altro la distanza tra il centro dell'elissoide in un caso e nell'altro è assolutamente non banale ad esempio tra il GRS 80 che è l'elissoide che si utilizza nel sistema VGS 84 che poi vedremo essere interessante da un punto di vista del posizionamento satellitare e un altro elissoide ho preso ad esempio il Clark 1866 che è l'elissoide del sistema di riferimento NAD 27 utilizzato in parecchie parti degli Stati Uniti e entrambi vi ricordo sono utilizzati negli Stati Uniti voi commettete un errore già solo nella stima del centro di massa del nostro del centro dell'elissoide rispetto al centro di massa della Terra di circa 236 metri quindi assolutamente un qualche cosa che non è per nulla banale quindi molta attenzione anche quando non solo andrete a scegliere nei GIS il vostro sistema di coordinate ma soprattutto ricordatevi che ci sono poi problemi anche sulle tipologie di elissoide lo vediamo meglio in questa in questa slide qua cioè se io scelgo degli elissoidi diversi io vado a vi ho riportato qui la lunghezza del semiasse maggiore e il flattening cioè il cosiddetto schiacciamento guardate le variazioni di coordinate vi ricordo che ad esempio l'elissoide di Bessel 1841 viene utilizzato non solo in Europa ma anche in altre aree tipo dell'Africa oppure dell'Asia e veniva utilizzato per reti di controllo nazionali e per attività di mapping sempre le stesse attività che vengono diciamo considerate anche se utilizzate il sistema VGS 84 che vi ripeto un elissoide di particolare interesse per il punto di vista satellitare occhio perché le differenze già solo nella lunghezza del semiasse maggiore sono di poco inferiore al chilometro oltre a avere differenti parametri di flattening quindi molta molta attenzione in questo caso qua la domanda a questo punto è bene io so come rappresentare la Terra ho scelto e ho capito comunque che ci sono due modalità elissoide e geoide a questo punto voglio rappresentare oggetti e punti la domanda è quanto può essere accurata la conoscenza della posizione di un punto ma soprattutto è costante nel tempo questa la risposta beh non è proprio così non è sicuramente costante e quanto è accurata beh dipende da due sostanziali cose dobbiamo capire che cosa vuol dire intanto accurata e soprattutto quali sono le tecniche di misura che noi abbiamo a disposizione quello che possiamo dire con certezza è che questo non è costante nel tempo perché non è costante nel tempo perché voi siete sicuramente molto più doti di me sul fatto che la terra si muove cioè la terra non può essere assimilata ad un corpo rigido e che ci sono degli effetti che sebbene noi non vediamo o meglio non vediamo molto spesso perché ogni tanto ce ne accorgiamo a causa di terremoti a causa di eruzioni vulcaniche tutte le terre emerse sono comunque soggette a spostamenti il fatto del cosiddetto tettonica delle placche quindi i geologi ne sanno sicuramente più di me non voglio entrare certamente nel loro campo ma questi effetti si ripercuotono in maniera assolutamente non banale sulla determinazione delle posizioni di punti o di oggetti sulla superficie terrestre io che sono un ingegnere o comunque i geometri o qualunque professionista voglia determinare la posizione di un punto o di un oggetto sulla superficie terrestre vorrebbe fare sì che se lui misura le coordinate di questo punto oggi e le compara con quelle di un anno fa due anni fa dieci anni fa e sotto l'ipotesi che il punto non si sia spostato perché nessuno l'ha rimosso nessuno l'ha rimesso e quelle coordinate dovrebbero essere sempre le stesse ahimè sappiamo bene che non è così perché appunto a causa della deriva dei continenti di questi moti in realtà noi non possiamo determinare le coordinate e in maniera costante nel tempo allora che cosa succede? succede che per poter determinare rappresentare la terra in una maniera sufficientemente precisa ed accurata non possiamo basarci solo su misure terrestriche fatte con degli strumenti della cosiddetta topografia tradizionale quindi livelli o stazioni totali ma al variare diciamo con l'evolversi della tecnologia ci si è spostati anche all'utilizzo di strumentazioni satellitari dove il gps o il gnss è solo una delle costellazioni e strumenti e tecniche satellitari che ci permettono non solo di determinare la forma della terra ma anche di determinare il cosiddetto sistema di riferimento cioè di materializzare il mio sistema di riferimento ovvero di passare da quello che io vi dicevo prima essere un insieme di regole che noi ci diamo per far sì che questi punti si possano esprimere in maniera univoca a un qualche cosa di pratico cioè come passare da un concetto teorico ad una sua realizzazione vedete in questa mappa in realtà non esiste solo il gps ma ci sono tutta un'altra serie di tecniche satellitari basate magari su ad esempio l'SLR che è il Satellite Laser Ranging o il VLBI che sono tecniche radioastronomiche che ci permettono in maniera indipendente in primis ma poi congiuntamente di fare sì che si possa non solo determinare ma anche stimare quanto sia questo movimento delle placche e soprattutto che si possa far sì che le coordinate di un punto che io stimo oggi possano essere comparabili con quelle che aveva stimato o misurato magari un mio collega qualche anno fa e che misureranno degli altri colleghi nel futuro questo per fare sì che vi sia una certa coerenza ovviamente come si fa a fare questo? beh in realtà esiste un istituto che è lo IERS che è l'International Earth Rotation Service che in generale come una delle sue missioni principali ha quella di definire il sistema di riferimento ITRS cioè di definire l'International Terrestrial Reference System che cos'è questo International Terrestrial Reference System è la definizione di un sistema di riferimento terrestre internazionale cioè che vada a valere a scala globale questo è il cosiddetto insieme di regole non scritte che ci dicono dove è lo zero e soprattutto come poter fare a fissare i cosiddetti gradi di libertà del sistema dopodiché bisogna passare dal concetto teorico ad un concetto pratico cioè dalla sua definizione ad una sua realizzazione o materializzazione per cui si passa dall'ITRS al ITRF cioè si passa dal system al frame e per farlo io che cosa faccio vado a determinare le coordinate di una serie di punti che erano proprio quelli che vi avevo fatto vedere nella slide precedente con una risoluzione magari non così bellissima ma che mi permettono di fare sì di capire in maniera indipendente tra le varie tecniche come questi punti si possono spostare al variare del periodo le coordinate quindi che compongono un sistema di riferimento sono aggiornate continuamente ovvero io scelgo quei punti lì li metto in una li metto in una grossa tabella e ne determino le coordinate ad un istante prefissato poi continuo a vedere a misurarli e con varie tecniche in maniera indipendente al modo in modo tale da poter togliere quelli che potrebbero essere errori grossolani o errori di misura tenere in considerazione quelli che potrebbero essere errori di misura io che cosa faccio vado a capire come queste variano al variare del tempo e quindi le aggiorno aggiorno in maniera costante e continua e le catalogo in funzione degli anni allora quello che otteniamo è che in realtà mentre l'ITRS è un insieme di regola l'ITRF vengono associati poi due numerini che sono i numerini che ci permettono di capire quando quella realizzazione del sistema di riferimento che avevamo considerato è stata effettuata cioè ad esempio possiamo arrivare a dire che l'ITRF 2005 è la materializzazione del sistema ITRS con le misure e la compensazione delle stesse all'epoca 2005 vedete che ci sono tanti punti che devono essere considerati devono essere ovviamente ben sparsi su tutta la superficie del globo questi qui non sono punti messi su voi ma sono magari su isolettine e mi permettono quindi di materializzare un sistema di riferimento vedete anche forse lo spero che alcuni punti hanno più simbolini questo ci permette di far sì di comparare tecniche in maniera indipendente proprio per capire se ci sono dei bias dei sistematismi o degli errori nella determinazione delle coordinate di quel punto avere tecniche indipendenti ci permette di aumentare l'affidabilità del sistema vedete quindi che mentre il sistema è unico il set di regole è unico la materializzazione varia varia al variare degli anni e è iniziata sostanzialmente come RF nell'89 mano a mano è andata avanti e siamo arrivati al 2014 questo perché vedete che non è costante comunque al variare degli anni tra il 2005 e il 2008 sembrano essere passati solo tre anni tra il 2008 e il 2014 sono passati sei perché questo? Beh per due motivi perché intanto le tecniche migliorano e soprattutto tecniche di posizionamento di stima del sistema di riferimento ma soprattutto si va ad aggiornare il catalogo di queste coordinate per fare sì che ogni qual volta mettiamola così ogni qual volta ci sia la necessità di sistemare un pochettino le cose perché gli errori di stima nel posizionamento non possono più essere considerati trascurati perché ovviamente a mano a mano che la tecnologia avanza cambiano anche le precisioni che vengono sempre più richieste al giorno d'oggi quindi per farvelo Paolo scusami visto che stai parlando di questo ti interrompo perché Alessandra chiede perché ci sono molte più materializzazioni in Europa non sarebbe meglio averle equamente distribuite sulla Terra? Allora tanto grazie per la domanda Alessandra ovviamente il problema della materializzazione nel capire dove distribuirle è un problema non banale tanto bisogna far sì che ci sia la possibilità di installare degli strumenti che non vuol dire solo piazzare lo strumento lì ma vuol dire anche avere tutta una serie di infrastrutture non banali che ci permettono che queste misure vengano effettuate in continuo e che vengano questo vuol dire avere corrente elettorale in maniera stabile spesso le batterie tampone non sono assolutamente considerate sufficienti per delle misure di questo tipo ci serve anche una connessione internet perché ovviamente tutti i dati devono essere non solo salvati in locale ma deve essere effettuato un backup presso dei server e quindi vedete che sostanzialmente nelle aree maggiormente urbanizzate c'è una maggiore concentrazione di tecniche di posizionamento vedete anche che molto spesso nonostante l'Antartide sia una zona che è scarsamente popolata vengono comunque garantite delle installazioni di strumentazioni anche in Antartide perché ovviamente la parte sia diciamo artica che antartica è sicuramente fondamentale anche nell'ottica di cambiamenti climatici quindi di monitoraggio di come si sta evolvendo il continente antartico non solo nella sua interezza ma anche rispetto agli altri continenti ok e quindi ovviamente diciamo l'area dove si vanno ad installare strumentazioni è fortemente in funzione è fortemente condizionata anche dalle infrastrutture accessorie che ci servono per poter far sì che ci sia una affidabilità in termini di continuità delle misure e anche di sicurezza che non intervengano fattori esterni quindi in cosa spero ovviamente spero di aver diciamo risposto ad Alessandra ovviamente quindi l'ITRF consiste in una serie di coordinate cioè in un catalogo di coordinate di punti che contribuiscono alla sua soluzione voi vedete qui ad esempio una serie di punti in Italia dove noi abbiamo le coordinate vi ripeto in XYZ quindi coordinate geocentriche e una stima anche delle velocità cioè di come quel punto lì si sta spostando al variare diciamo degli anni quindi scelta un'epoca T0 che è l'epoca di riferimento ad esempio nel 2005 per ogni stazione io definisco la sua posizione iniziale che è esattamente questa qua più una matrice di varianza e covarianza cioè la stima viene effettuata all'epoca T0 ma devo dire anche qual è l'incertezza di quella stima lì perché un conto se io determino queste coordinate con una precisione di qualche millimetro un conto se le determino con una precisione di qualche millimetro non mi basta però avere solo le coordinate e la loro precisione ma mi serve anche capire qual è la velocità e la loro precisione cioè la velocità di spostamento di quel punto usando sempre tecniche indipendenti e la stima della precisione della velocità una volta che io ho tutte queste informazioni compilo un bel file tabellare e quello è per quanto riguarda lo IERS la materializzazione del sistema di riferimento questo ovviamente viene fatto al variare degli anni ma devo sempre far sì devo sempre permettere che io possa comparare le coordinate attenute ad esempio nel sistema 2008 ITRF 2008 con quelle che avevo acquisito cinque anni fa magari nel sistema ITRF 2005 e allora devo fare sì che ci sia un'interoperabilità tra sistemi di riferimento e quindi che io possa convertire in maniera rigorosa vedremo poi come poter fare le mie coordinate acquisite da un sistema di riferimento all'altro tendenzialmente che cosa succede per farvela in maniera breve iniziandovelo già a raccontare io devo considerare sette parametri tre parametri che sono i tre parametri traslativi tre parametri di rotazione più un parametro che è il cosiddetto fattore di scala quindi tendenzialmente una trasformazione che sembra essere sette parametri in realtà non è sette parametri perché vi ricordo che non c'è solo la posizione ma bisogna considerare anche le velocità e quindi in realtà si passa da una serie di sette a una serie di quattordici parametri di trasformazione che ci permettono di convertire un sistema di riferimento itrf di un'epoca a quello di un'altra epoca questo ovviamente qui vi ho riportato il link se qualcuno poi è interessato può andare a vedere sul sito o dell'IGN o dello IERS quali sono questi parametri di trasformazione i parametri vengono stimati sia ad esempio per il passaggio dall'itrf 2005 al 2008 sia ad esempio per il passaggio dall'itrf 2008 al 2014 ovviamente vedete che i numerini cambiano vedete qui ma cambiano anche magari la dislocazione dei punti che vengono utilizzati perché per poter stimare questi parametri qua devo far sì di scegliere una serie di cosiddetti punti doppi che io considero essere altamente stabili e sulla base dei quali io vado a determinarmi i 14 parametri di trasformazione vedete ad esempio che per l'itrf 2014 sono stati considerati ad esempio 125 siti anche qua abbastanza ben disparsi abbastanza ben sparsi e dispersi pardon su tutta la superficie terrestre ok a questi link potete ovviamente poi trovare anche tutte le informazioni relative all'estima se qualcuno fosse interessato vi ricordo solo una cosa che ovviamente il passaggio è mutuo cioè io posso passare dall'itrf 2008 al 2014 e viceversa e deve essere fatto in maniera univoca e rigorosa diciamo senza aver ambiguità o senza avere particolari approssimazioni perché la stima deve essere fatta tramite le procedure che vedremo poi in un secondo scusami Paolo l'ultima un'altra domanda di materializzazioni sempre di Alessandra che chiede se ci sono materializzazioni che non sono state ritenute più affidabili a seguito di terremoti cioè se questo catalogo diciamo è dinamico insomma se cambia assolutamente assolutamente sì il catalogo è dinamico perché ovviamente se diciamo che i siti che vengono scelti vengono scelti diciamo con una certa accortezza con alcuni accorgimenti andando soprattutto ad installare gli strumenti in aree che non sono assolutamente soggette né a subsidenze né a eventi tellurici ben lontani da vulcani ma vengono anche proprio scelti diciamo delle aree critiche dove io voglio andare ad analizzare quali sono gli spostamenti delle varie faglie delle varie placche questo mi permette di andare a effettuare una doppia analisi un'analisi di stabilità nel primo caso e di movimentazione nel secondo caso tuttavia quando io devo effettuare delle stime per il passaggio tra un sistema di riferimento e l'altro è di fondamentale importanza andare a rimuovere dal catalogo tutte quelle stazioni che non sono considerate stabili vuoi perché hanno avuto magari dei problemi già di connessione nel senso che non hanno garantito un'affidabilità elevata in termini di trasmissione diciamo dei dati o vuoi perché sono proprio sono state proprio installate in realtà su delle aree che non sono assolutamente stabili o riconosciute come particolarmente diciamo stabili ecco diciamo stabili è forse il termine più più adatto scusami Paolo ci sono altre due domande sempre a proposito di trf voi le facciamo subito perché cambia argomento facciamo subito facciamo subito allora Luca chiede che saluto ciao Luca dice quindi trf è un sistema mondiale che possiamo usare in qualsiasi paese tipo un vgs 84 allora lo vediamo poi un pochino meglio tra un po' tra qualche minuto l'itrf è un sistema mondiale il vgs 84 in realtà non è un sistema di riferimento so che magari la detta così può suscitare un po' di preoccupazione questa cosa ma in realtà il vgs 84 ha un senso nel momento in cui noi parliamo di diciamo poi di un sistema che viene poi proiettato sostanzialmente una sorta di ellissoide per essere un pochino più precisi noi abbiamo un grs 80 come ellissoide poi un vgs 84 che però non ha molto senso di esistere alla luce diciamo degli ultimi sviluppi in ambito geodetico primis e cartografico poi dtrf è il miglior sistema di riferimento mondiale che possiamo utilizzare perché è stato determinato in maniera diciamo in maniera univoca tramite tecniche indipendenti e loro compensazioni ok quindi per agganciarmi alla domanda poi di servizi ad arte che vedo adesso in chat subito dopo pardon Ale in realtà quello che noi facciamo è che ogni tot anni noi no ma lo fa lo IERS si va a ricolcolare le coordinate delle stesse stazioni in funzione del nuovo sistema di riferimento e questo ci permette anche di fare sì che una volta che noi abbiamo stimato questi 14 parametri o meglio che lo IERS li stima per noi noi possiamo andare a propagare in avanti o indietro le coordinate dei nostri punti per capire se effettivamente quel punto lì si è mosso quindi la differenza di coordinate è dovuta a un movimento del punto quindi a una sua non stabilità oppure se la differenza di coordinate che noi vediamo ad occhio è dovuta al fatto che è la placca che si sta muovendo e questo è un problema assolutamente non banale che dobbiamo andare a considerare e vediamo tra un paio di slide come poter fare dunque Adelchi chiede ma ETRF è parte del ETRF adesso lo vediamo così lascio un attimo di suspense e quindi invece Giovanni chiede quindi con ETRF si arriverà ad un unico sistema di riferimento ad utilizzarsi nei GIS assolutamente no assolutamente no perché lo vediamo vi ripeto lo vediamo tra un attimino in realtà voi lo trovate già all'ETRF come possibile sistema di riferimento in GIS il problema come vi dicevo all'inizio è occhio a che cosa vogliamo fare cioè l'ETRF è un sistema molto carino direi figo se fossimo in una in una sede un po' più informale ma a patto che noi stiamo considerando qualche cosa di globale è molto diciamo pericoloso per applicazioni pratiche cioè per un professionista che va a effettuare dei rilievi ad oggi usarli ETRF può essere tra virgolette pericoloso perché le coordinate stimate oggi e comparate con quelle stimate tre anni fa se non trattate con accortezza e vediamo tra poco che cosa vuol dire può creare e può portare a delle confusioni o degli errori assolutamente non banali ok quindi in realtà quello che adesso vado così mi aggancio poi alla domanda di Adelchi che mi dicevi quello che noi vogliamo fare è cercare di far sì che non ci siano come si dice in italiano delle chiamiamo delle incertezze o delle inesattezze o dei problemi o dei dubbi su cosa dobbiamo utilizzare allora innanzitutto arriviamo alla fine dell'ITRF che fine vuol dire l'ultima versione dell'ITRF che è stata rilasciata ritenuta stabile ed ufficiale che è l'ITRF 2014 che è quello che vedevamo in questa slide che si basa sulla stima di 127 stazioni ok in realtà l'ITRF è l'International Terrestrial Reference Frame questo ovviamente mi crea qualche problema mi crea qualche problema perché perché tendenzialmente quando io voglio determinare la mia posizione in maniera speditiva utilizzando ad esempio un cellulare prima ancora che uno strumento professionale io voglio sapere dove sono e la posizione me la dà il GPS o il GNSS allora cosa era successo che nel momento in cui è nato il GPS hanno dovuto definire un sistema di riferimento che non era l'ITRF perché vi ricordo che il GPS nasce negli anni 80 e quindi ben prima delle definizioni dell'ITRF e allora nasce il cosiddetto sistema IGS che era un sistema ed è un sistema di monitoraggio globale delle deformazioni dell'ITRF occhio che le coordinate delle stazioni GNSS però cambiano al variare degli anni ma voi mi direte beh perché allora è importante sapere sto sistema ce ne stai facendo una capatanta con tanti sistemi importante perché se voi invece fate il posizionamento in ambito GPS non GNSS ma GPS tutte le informazioni relative ad esempio alle coordinate dei satelliti ai parametri di correzione degli orologi dei satelliti alle stime di ritardo ionosferico di troposferico di moti del polo non vi vengono date in ITRF ma vi vengono date nel sistema IGS per cui per fare un posizionamento di precisione dove voi vorrete arrivare per farmi capire ai millimetri nella stima della vostra posizione con una precisione millimetrica non potete basarvi sull'ITRF ma dovete obbligatoriamente passare dall'IGS questo è un problema perché perché l'IGS ha a sua volta tutti e altri punti non solo ed esclusivamente altri punti ma diciamo scegli una parte di punti di stazioni che sono coerenti con l'ITRF e un'altra parte di punti che sono invece proprie ed esclusive dell'IGS perché ci sono dei punti anche qua in comune beh ovviamente per potervi garantire l'interoperabilità tra i due sistemi per passare dal sistema ITRF all'IGS e viceversa senza grossi problemi apro solo un warning attenzione tutte le volte che fate un cambio di sistema di riferimento o passate da un sistema di riferimento all'altro prestate molta attenzione perché voi introducete comunque un errore che è l'errore dovuto a una propagazione dell'incertezza di stima delle coordinate di partenza e quindi perdete in termini di precisione della vostra soluzione la rete IGS ve la riportate in questo slide ma potete trovare tutti i dettagli a questo link qua sotto e vedete che ha un numero una numerosità di punti che è sicuramente molto maggiore rispetto a quella che avevamo visto nella slide precedente in Europa che cosa succede? beh ovviamente la parte IGS è sempre comunque interessante e importante perché tutti noi vogliamo fare posizionamento e lo facciamo con strumenti GPS e quindi abbiamo una serie di stazioni che sono parte e dislocati bene o male in tutta la zona europea ovviamente questo ci garantisce un'interoperabilità a livello europeo dell'utilizzo della rete IGS quindi a questo punto abbiamo questo doppio doppio questa doppia possibilità cioè ITRF o IGS cosa è meglio cosa è peggio beh in realtà è un confronto che non è una domanda malposta cioè non è che vince una e perde un altro sono due cose un pochino diverse cioè l'ITRF usa tante tecniche di misura ok e di per sé l'IGS usa solo la costellazione GPS occhio quindi che la soluzione GPS only non è migliore di quella ITRF ok ma ha il pregio di essere più autoconsistente che cosa vuol dire vuol dire che l'ITRF è fatto da GPS e da altre tecniche di posizionamento quindi una soluzione combinata di tante fonti diverse possiamo dirla per fare un'analogia a una macedonia però occhio che se la macedonia è fatta bene le cose funzionano molto bene se ci infilate un pezzettino di frutta che magari è un pochettino più acido tutta la macedonia perde un po' di sua godibilità ok quindi si peggiorano un pochettino le cose per cui si dice che è un pochino meno autoconsistente ok perché è frutto della combinazione di soluzioni di tante tecniche diverse cosa che invece nell'IGS non c'è d'altro canto però la parte di TRF ci permette di andare ad escludere possibili problemi dovuti a un'errata stima di soluzioni che sono proprie di una sola e singola tecnica ad esempio della tecnica GPS ok quindi ci sono ci sono dei pro e dei contro sono due sistemi due famiglie di sistemi di riferimento differenti hanno i loro pregi hanno i loro difetti l'importante è saperlo ed esserne consci giusto per complicarvi anche un pochettino di più la vita a partire dal 2000 l'IGS ha creato un ulteriore sistema di riferimento che viene detto IGS 00 e in seguito una sua nuova versione che è il cosiddetto IGB 00 perché questo? perché l'IGB 00 è diciamo completamente autopreservante rispetto all'ITRF 2000 cioè io non ho assolutamente distorsione quindi questo è il motivo per il quale esiste da un punto di vista molto più pragmatico uno si chiede bene adesso mi hai fatto vedere ancora più cose cosa mi serve beh provo a raccontarvi ancora due cosine poi vediamo di arrivare a cosa devo utilizzare o cosa vi suggerirei o cosa vi consiglieremmo di utilizzare partiamo dalla stima dei campi di velocità dell'ITRF stimati nel 2005 ogni vettorino che vedete rosso in questa slide è la stima della velocità di quel punto lì stimata all'anno 2005 cosa vediamo vediamo ovviamente che ad esempio questa qui è la parte europea quello che possiamo automaticamente vedere in tempo zero è che la placca euroasiatica si sta muovendo in direzione nord-est ed è più o meno tutta coerente quello che vedete che ad esempio la placca nord-americana si sta muovendo in senso anti-orario quindi in una direzione chiamiamola verso nord-ovest scusate nord-est sud-ovest ci sono dei punti che sono bene o male coerenti ci sono dei punti che sono completamente diciamo incoerenti rispetto al posto di dove vengono collocati questi però ci permettono di vedere una discreta una buona coerenza tra la loro posizione e le placche tettoniche che vengono ad oggi considerate questa era la soluzione nel 2005 guardate nel 2008 in realtà non fatevi spaventare dall'intensità maggiore del colore l'intensità maggiore è dovuta anche al fatto che ci sono state molte più stazioni prese in considerazione perché all'aumentare diciamo degli anni le tecnologie migliorano e anche la dislocazione spaziale quello che si può vedere ovviamente è che nuovamente c'è un'ottima coerenza ad esempio sia sulla placca nordamericana sia sulla placca europea questa era la stima nel 2008 questa è la stima nel 2014 guardate come si è densificata la stima delle soluzioni di posizionamento questo perché è importante perché come vi ho riportato qua sotto nella slide occhio che se le placche tettoniche si muovono le nostre posizioni di riferimento cambiano se voi guardate questo vettorino qui lo provate a stimare qua sopra sull'Europa si vede che in media in media in Italia gli spostamenti sono di circa 30 mm all'anno che vuol dire 3 metri in 100 anni o 30 cm in 10 anni quindi capite che se oggi misurate un punto e lo comparate con quello misurato 10 anni fa voi trovate una differenza di 30 cm magari su GIS non ve ne accorgete quasi ma da un punto di vista professionale può creare più danni della grandine soprattutto se lavorate in ambito catastale e questo è sicuramente una cosa da prestare particolarmente attenzione ok ovviamente quindi occhio a cosa stiamo considerando da un punto di vista eccolo qua diciamo della stima a livello delle tecniche vedete anche che se considero una tecnica piuttosto che un'altra il fatto di usare un ITRF mi aumenta la sua affidabilità e si vede anche una certa coerenza a meno di qualche roba stramba vedete ad esempio questo punto qua che due stazioni molto vicine sulla stessa area che danno soluzioni abbastanza differenti ove ci sono delle soluzioni delle criticità tipo questa vengono ovviamente rimosse perché non si dice meglio questa o meglio questa si rimuovono entrambi tanto la numerosità di punti è sufficiente a garantire un'elevata affidabilità della soluzione a livello europeo vi ripeto eccolo qua vi chiedo scusa per la risoluzione perché nel passaggio a pdf probabilmente ho perso in termini di qualità vedete che c'è comunque sempre un'ottima un'ottima coerenza e la direzione vi ripete di circa 30 mm all'anno nella direzione nord-est ok questo ci permette di dire che in realtà appunto un utilizzo dell'ITRF da un punto di vista professionale non è assolutamente una buona cosa perché ovviamente come vi ho detto prima se io comparo faccio una comparazione tra le coordinate di un punto che io considero stabile misurate oggi con quelle di 10 anni fa questo crea ovviamente una differenza di 30 cm dovuta solo ed esclusivamente al fatto che la placca euroasiatica si sta muovendo allora che cosa succede è che l'ITRS in Europa diventa ETRS cioè io uso lo stesso approccio a livello europeo ma a togliere assolutamente il moto di placca costante dell'Europa che cosa vuol dire da un punto di vista proprio pragmatico vuol dire che in realtà se io vedo che c'è come vedevo buona coerenza nello spostamento della placca euroasiatica io posso dire che in realtà quei punti lì non si stanno muovendo al loro interno cioè c'è un'ottima coerenza interna ma la loro coerenza è sì interna ma non esterna quindi intrinsecamente il sistema funziona allora io potrei dire faccio una foto ad oggi dell'interdistanza tra i punti e considero quello come soluzione zero questo vuol dire creare l'ETRS cioè l'European Terrestrial Reference System con la sua materializzazione cioè con la sua implementazione pratica che viene a livello europeo creato tramite l'EPN cioè l'European Permanent Network cioè 245 stazioni permanenti GNSS dislocate lungo tutta l'Europa in modo tale che mi permettano di non solo essere coerenti e di continuare a stimare questo moto di placca ma di poterlo rimuovere e far sì che il professionista possa comparare le coordinate che tiene oggi con quelle che aveva ottenuto dieci anni fa senza trovarsi 30 centimetri di differenza e avere un coccolone nel momento in cui cerca di capire se quel punto li si era spostato o no perché ovviamente tutti noi perdiamo le nostre certezze quindi che cosa succede che per ogni ITRF viene definito un ETRF con le stesse cifre finali quindi ITRF 2005 ETRF 2005 2008 con 2008 2014 con 2014 allora come faccio a capire l'ITRS e l'ITRF come variano tra di loro beh devo scegliere un punto nel quale fare io la fotografia cioè far sì che ITRS coincidano per fare per fare ciò si è scelto l'epoca 1989 ovvero l'ITRS coincide con l'ITRS a quella data l'epoca muovendo e rotando stabilmente in media la la placca euroasiatica ok quindi che cosa vuol dire vuol dire che il movimento della placca euroasiatica non è assolutamente trascurabile rispetto a tutte le altre placche ok ma le stazioni di riferimento europee che lo materializzano cioè la loro materializzazione alla loro implementazione pratica non si muovono rispetto a uno dall'altro se io non adottassi questo escamotage io dal 2000 mi sarei perso 25 centimetri cioè un punto che è stabile monumentato su roccia il più stabile che io conosca l'avrei trovato oggi 25 centimetri spostato rispetto a quello che mi sarei aspettato ma non perché lui si è mosso ma perché tramite delle tecniche satellitari io lo vedrei 25 centimetri spostato io seduto a fianco a lui non mi accorgo del suo movimento ma se io fossi seduto su un satellite e guardassi dal satellite quel punto lì io lo vedrei 25 centimetri spostato nella direzione nord-est allora la creazione la materializzazione dell'ETRS nel suo ETRF ci permette di fare sì che questo spostamento non sia visibile e che quindi da un punto di vista del monitoraggio delle attività di misura tutto sia coerente ovviamente ogni se io scendo da scala globale a scala continentale da scala continentale a scala locale devo continuare a mantenere una certa coerenza interna e allora l'ETRF viene recepito in Italia tramite il decreto del 10 novembre del 2011 che era nominato adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale il quale diceva attenzione che l'unico sistema di riferimento geodetico nazionale che è ufficiale per le leggi è l'ETRF 2000 determinato all'epoca 2008.0 cioè che cosa vuol dire vuol dire che io vado ad usare lo stesso approccio che avevo utilizzato prima a livello europeo non scelgo più 245 stazioni ma ne scelgo circa 100 dislocate su tutta Italia vincolandomi ad alcune stazioni alcuni punti che sono parte dell'ETRF io vado a crearmi l'ETRF 2000 all'epoca 2008.0 e così io materializzo il mio sistema di riferimento nazionale allora qui voi trovate anche il link al quale potete andare a vedere il sito della gazzetta ufficiale che vi riportava tutte le varie i vari commi le varie decidure questo decreto era particolarmente interessante perché ci diceva anche che tutti i dati cartografici devono essere convertiti al nuovo sistema di riferimento su cui la faccina è un po' così perché poi lascio a voi il diciamo la possibilità di capire se effettivamente è stato fatto o meno Stefano nella sua parte Stefano Campos nella sua parte ci racconterà pregi e difetti e a che punto siamo ok quindi solo per chiudere un attimo la questione sul sistema di riferimento nazionale ad oggi quello che voi trovate è la cosiddetta rete dinamica nazionale perché dinamica lo abbiamo appena capito perché nazionale perché ovviamente è funzione di una serie di stazioni permanenti GNSS che sono state scelte dall'Istituto Geografico Militare per determinare quella che è la rete nazionale di ordine zero cioè la loro posizione è stata in primi scompensata in ITRF 2005 trasformata in ITRF 2000 all'epoca 2008.0 e quella è la definizione della materializzazione del sistema di riferimento ufficiale in Italia cosa vuol dire questo? vuol dire che se voi fate qualche qualunque lavoro qualunque lavoro esso sia da un punto di vista professionale e voi fornite al vostro committente un risultato che non è in questo sistema di riferimento voi non state adempinto al DPCM che avevate visto prima a quel decreto e quindi da un punto di vista pratico voi non siete coerenti con la normativa nazionale quindi vi ricordo assolutamente ITRF 2000 all'epoca 2008.0 o anche detto rete dinamica nazionale bene come faccio a passare tra un sistema di riferimento e l'altro abbiamo visto una serie di domande che forse vale la pena a cui vale la pena rispondere adesso perché riguardano la prima parte allora Marino no scusa siamo ancora un po' più indietro Alessandra dice quindi c'è un pezzo di placca sulla Sicilia che la visce la Sicilia sì sì diciamo che la Sicilia è ovviamente avendo un un suo vulcano attivo è comunque una zona considerata abbastanza interessante da una parte forse un pochino più critica dall'altro perché è sempre in una zona borderline e quindi è altamente interessante da un punto di vista non solo geodetico ma proprio geodinamico per capire la sua stabilità e il suo andamento rispetto alla placca euroasiatica ok Nicola chiede per quanto riguarda l'importanza a livello catastale quale può essere il problema se tutti i punti a livello catastale traslano? allora tutto quello che vi sto raccontando adesso esula il discorso catastale al quale accenerò un po' dopo il discorso catastale è molto più ampio perché meriterebbe forse un webinar apposta eh lo facciamo sì va bene ci possiamo provare possiamo provare nel senso che a livello catastale ovviamente voi noi non abbiamo più tutti questi problemi qui perché il livello catastale è formato da tutt'altra tipologia di approccio con tante origini tante false origini vedremo poi dopo i problemi di come implementare in cartografia tutto quello che ci stiamo raccontando che non è assolutamente banale vuol dire mentre qui io sto cercando di capire un come riportare dei punti sulla cartografia poi io devo andare a posizionare degli oggetti che hanno una superficie che hanno un volume che hanno delle lunghezze quindi devo per forza introdurre delle deformazioni siano esse lineari siano esse reali o angolari e questo ovviamente è un problema non banale quindi a livello catastale cambiano ancora le cose provo a raccontarvelo un po' dopo ti chiedo solo un attimo la pazienza di attendere poi arriviamo anche lì ok Giovanni chiede è possibile assumere che tutti i punti europei è possibile assumere tutti i punti europei come fissi perché tra di loro hanno uno spostamento costante e coerente sì è possibile ed è quello che fa l'EPN che fa questo l'Euref che è l'European Network che gestisce un ente che gestisce proprio la materializzazione a livello europeo nel caso in cui ci siano ad esempio degli eventi tellurici quindi dei sismi o delle eruzioni vulcaniche che comunque creano delle deformazioni locali quei punti lì vengono rimossi dalla stima per la materializzazione del sistema di riferimento a scala europea ok quindi confermi quello che dice Marino in sostanza si isola il blocco europeo considerando che si muova di un moto rigido esattamente esattamente quantomeno prima lo si stima verificato che sia così lo si isola sì ok Adelchi fa un'osservazione che poi riprenderemo pochi conoscono questo decreto vista la cartografia che gira sì poi vi porto anche la mia esperienza di pubblica amministrazione quindi poi Marino vi chiede riprendendo la domanda di prima implicazione a livello pratico a livello catastale a livello di monitoraggio topografico di precisione esempio di monitoraggio di una frana su scala subdecennale lo vediamo proprio adesso in questo slide qua perché da un punto di vista diciamo pratico che cosa succede che voi fate una misura oggi e volete compararla con quella fatta il giorno prima due giorni prima un anno prima cinque anni prima allora se voi parlate di punti quello che stiamo vedendo adesso funziona perché voi siete coerenti con le tecniche di misura e soprattutto sul fatto che voi considerate un punto se noi parliamo a livello catastale che vuol dire anche aree il problema è passare non da un qualcosa di puntuale di un'epoca a un qualcosa puntuale di un'altra epoca ma da un qualche cosa superficiale stimato di una certa epoca a un qualcosa di superficiale stimato in un'altra epoca che poi viene riportato ancora su una cartografia quindi c'è un ulteriore step e questo è un ulteriore problema in termini di deformazioni quindi di assunzioni nel passaggio tra stima di posizione a sua implementazione sulla cartografia e oltre che quello che abbiamo tra un sistema di riferimento e lo stesso sistema di riferimento ma in un'altra epoca sì giusto l'ultima Massimiliano dice ma le deformazioni ci sono comunque sia per gli alpi orientali sia per gli appennini sì le deformazioni ci sono sempre ci sono dappertutto nel senso che le deformazioni cioè con deformazione anche qua dovremmo aprire un mondo un conto cioè cosa intendiamo per deformazione in realtà una deformazione la potremmo assumere come uno spostamento una differenza rispetto ad una stima effettuata in un altro momento sì è dimensionale la deformazione non è una lunghezza è un rapporto esattamente esattamente quindi cioè in realtà le variazioni di coordinate se così vogliamo chiamarle ci sono sempre e comunque il problema da un punto di vista pratico è capire se la differenza di valori che tu ottieni tra la misura di oggi e la misura di un anno fa o di tre anni fa è dovuta a un il cosiddetto rumore di misura cioè l'incertezza che è intrinseca nella tecnica che tu stai utilizzando per determinare quelle coordinate lì o se è dovuta ad uno spostamento quindi ad esempio un crollo ad un cedimento a una variazione oppure ancora se è dovuta a un sistema di riferimento sbagliato perché tu stai comparando pere con mele ok puoi proseguire grazie Paolo ok figurati grazie a te quindi eravamo arrivati qua poi prometto che vi faccio fare un attimo di pausa e vado anche poi un pochino più veloce perché non so che ore sono non voglio tediarvi troppo perché la parte più interessante non è certo questa problema di trasformazione tra dati dinamici cioè come passo da un itrf a un itrf ci sono delle formule anche qua non voglio entrare assolutamente nel diciamo nella definizione nel contenuto sappiate però che ci sono delle regole matematiche ad esempio questa qui è la trasformazione più utilizzata la busce alta mimiche ci permette di passare da itrf ad una determinata epoca a itrf alla stessa epoca ad esempio questo è un esempiettino semplice per passare dai itrf 2000 ai itrf 89 ovviamente se io passo da un'epoca ad un'altra epoca nello stesso sistema di riferimento devo considerare ovviamente anche la componente temporale questa di sicuro è la diciamo l'equazione più generale che tiene non solo in considerazione delle coordinate ma anche le velocità eccole qua e l'epoca di riferimento alla quale io voglio fare la trasformazione ok quindi questo ci serve per poter convertire dato un dinamici quello che abbiamo diciamo che ho provato a raccontarvi fino adesso è proprio questa dinamicità dei sistemi di riferimento non possiamo più permetterci di fare sì che il sistema di riferimento sia uno statico e considerato costante nel tempo chi ci dà questi parametri cioè come è facile a capire quanto vale t quanto vale r quanto vale x punto beh ce li dà proprio l'euref cioè che ci permette di andare a determinare quali sono questi parametri e sono ovviamente tutti i parametri tabellari simili a quelli che avevate visto nelle slide precedenti se invece voglio passare da un'epoca t ad un'altra epoca rispetto diciamo sempre all'interno dello stesso sistema di riferimento quindi ad esempio sempre in etrf 89 basta una versione molto più semplificata dell'equazione precedente bene la domanda potrebbe essere beh ma adesso col sistema Roma 40 cioè visto che appunto abbiamo qualcuno di voi l'ha già accennato ci sono dei problemi nel senso che molte cartografie o comunque molti dati non sono negli ultimi sistemi di riferimento o in quelli che si vengono considerati ufficiali dal punto di vista normativo beh occhio perché il sistema Roma 40 ha parecchie cose che sono differenti in primis l'elissoide di rotazione è esattamente un altro cioè quello di Eiford orientata a Roma Montemario attenzione a tantissime cose è ancora abbastanza in utilizzo questo sistema di riferimento è stato utilizzato fino alla fine degli anni 80 per la produzione cartografica dal punto di vista dell'Igm viene utilizzato ampiamente a livello di carte tecniche regionali ma occhio alle trasformazioni quello che vi ho riportato qua in blu è occhio perché la differenza tra coordinate piane di un punto nel sistema di riferimento Roma 40 Gauss-Boag LTRF 2000 è di circa 30 metri sulla coordinata est e 20 metri sulla coordinata nord da un punto di vista professionale per nulla banale e per nulla trascurabile il tutto senza considerare le false origini attribuite alle coordinate del sistema Roma 40 quindi occhio perché magari a livello di GIS uno non si accorge fa degli avori produce delle cartografie poi si trova degli shift che possono ad una prima analisi sembrare ah ma è un errore così insomma magari i dati non sono presi bene soprattutto se avete un qualche rilievo che voi andate a posizionare sopra a una cartografia occhio perché non avete molto spesso la possibilità di controllare bene a questo punto che cosa che cosa vi vorrei raccontare che quello che abbiamo colto fino ad ora spero è che l'elisoide la possiamo considerare come superficie di riferimento planimetrico sulla quale proiettare tutti i punti della superficie il problema diventa come da questo elisoide io poi passo ad una rappresentazione ok su una superficie piana perché è un problema perché le superfici a doppia curvatura come la sfera o sferoide e le elisoide non sono assolutamente sviluppabili sul piano senza deformazioni quindi quando io arrivo a creare una carta io sto implicitamente rappresentando le elisoide su un piano quindi detto ciò vuol dire che io se non posso svilupparla sul piano senza introdurre deformazioni io implicitamente sto già dicendo che introduco qualunque diciamo nel momento in cui io faccio questa operazione io introduco una o più deformazioni quindi una qualunque figura viene deformata allora la rappresentazione da un punto di vista matematico è una funzione bionivoca che mi permette di passare da qualunque punto dell'elisoide a un punto uno ed un solo punto sulla carta ovviamente la funzione deve essere bionivoca cioè io posso passare dall'elisoide alla carta ma se ho un punto sulla carta lo posso ritrovare sull'elisoide quante funzioni esistono? bene esistono infinite funzioni di questo tipo e scelgo quali? scelgo quella che automaticamente mi permette di minimizzare o di non apportare una certa tipologia di deformazione la rappresentazione è una descrizione quindi che è piana perché arrivo sulla carta ma soprattutto importante deformata delle figure quali deformazioni introduco? lo sapete meglio di me lineari areali angolari e in funzione di questo io ho tre tipologie di carte isogone o conformi dove sostanzialmente la deformazione angolare è nulla in qualunque punto usate ad esempio per la navigazione le equivalenti dove io conservo costante il rapporto tra le aree di quadrilateri infinitesimi quindi carte sostanzialmente catastali anche se non sono le carte catastali esattamente delle equivalenti ma sono più affilattiche cioè le carte affilattiche sono rappresentazioni che non godono di nessuna ma cercano di ridurre al minimo le deformazioni ok in zone limitate vi ricordo giusto per curiosità che non esistono carte conformi ed equivalenti assieme ok perché altrimenti non esisterebbe deformazione e non esistono carte che non deformano le distanze in tutta la loro interesse ho quindi differenti tipologie di rappresentazioni gnomoniche che non sono quelle degli gnomi ma sono quelle centrografiche quelle stereografiche quelle scenografiche quelle ortografiche che mi portano ovviamente a poi essere diciamo a effettuare delle proiezioni ad esempio delle proiezioni cilindriche dirette cilindriche trasverse delle proiezioni iconiche su questo non dedico tempo perché poi Federico ci farà vedere qualche esempio molto più interessante di quello che vi voglio far vedere occhio sono una roba che le proiezioni molto spesso ingannano cioè tutte le volte che io prendo un qualche cosa e lo proietto su una carta prestate molta attenzione perché rischiate di avere una di fornire una percezione non un risultato ma una percezione di ciò che voi volete rappresentare che è fortemente influenzabile al partire dalla proiezione che voi state utilizzando bene abbiamo parlato fino adesso di sistemi di coordinate di riferimento pardon bene ma che cos'è quindi un sistema di riferimento è l'insieme delle regole ok l'insieme delle regole la sua materializzazione è l'implementazione pratica occhio a non confondere sistemi di riferimento con sistemi di coordinate cioè definito un sistema di riferimento io posso esprimere le coordinate di un punto in tante maniere diverse diciamo in modalità geocentrica usando le x y z come abbiamo visto prima in realtà potrei usare anche le coordinate polari che venivano più che altro utilizzate o sulle sulle sferoide o per applicazioni che esulano da questo webinar o coordinate geografiche latitudine e longitudine o proprio quelle cartografiche est e nord o addirittura coordinate locali per un piano locale occhio quindi che se io sono in uno stesso sistema di riferimento e faccio un cambio di sistema di coordinate io non sto cambiando le regole del gioco sto solo cambiando il modo di chiamare o di assegnare al punto le sue caratteristiche numeriche cioè le sue coordinate ma non sto cambiando le regole del gioco occhio cambiare il sistema di riferimento invece vuol dire cambiare le regole del gioco per cui potrei esprimere le coordinate di un punto in un sistema geocentrico in un sistema di riferimento o nell'altro restano sempre coordinate geocentriche ma cambia l'ellissoide e cambiano le informazioni come passo da una tipologia di coordinata all'altra beh qui ci sono un po' di slide che magari ve le guardate poi per conto vostro proprio se siete appassionati nel trasformarvi o nel crearvi delle vostre routine per trasformare le coordinate occhio che ci sono sempre equazioni dirette ed equazioni inverse che vuol dire sempre che il passaggio ad esempio da geocentrica a geografica e viceversa deve essere in modalità bionivoca in alcuni casi prestate attenzione perché non è una cosa automatica ad esempio vedete che da geografica geocentriche è one shot cioè in un colpo solo da geocentriche geografiche la formula è iterativa e quindi dovete settare delle tolleranze affinché voi vi fermiate in questa iterazione ok e quindi la soluzione finale è anche frutto della valutazione di queste tolleranze che voi andate ad implementare invece se voglio passare da geografica a ECEF faccio un esempietto molto simile poi ve lo magari ve lo guardate attenzione solo ad una cosa che ad esempio potreste anche scegliere di crearvi un piano locale soprattutto se state lavorando in aree abbastanza ristrette quindi per scopi ingegneristici ci sono i cosiddetti sistemi isometrici che hanno poi delle altre regole che esulano un pochettino da quelle che abbiamo visto fino ad ora quello che si riduce è il discorso si riduce tutto ad una trasformazione matriciale quindi a una rototraslazione o una rotazione secca ma tenete presente che queste conversioni sono valide per estensioni di circa 15 km dall'origine e solo ed esclusivamente per componenti orizzontali occhio che questa U è la componente up non è la altezza o la quota ortometrica questa Z non è la quota ortometrica ok come passo tra sistemi di riferimento a un altro ci sono tre tipologie di possibilità formule a tre parametri le cosiddette trasformazioni di Molodensky formule a sette parametri la cosiddetta trasformazione di Helmert formule a dieci parametri la cosiddetta trasformazione Molodensky Badekas oppure tramite l'utilizzo dei grigliati che cosa sono questi grigliati Stefano ci farà vedere poi un'implementazione pratica sono una sorta di modalità rigorosa quindi l'unica ad oggi ufficiale consentita a livello italiano che ci permette di passare da un sistema di riferimento A ad un sistema di riferimento B in funzione di queste griglie cioè usando delle correzioni costituite da differenze in variazioni di latitudine e variazioni di longitudine dei nodi su una griglia se come in questo caso qua io ho da convertire un punto che ricade all'interno della diciamo di una cella cosa che avviene nella quasi totalità dei casi o quantomeno nella maggior parte io quello che faccio è andare ad interpolare tramite un'interpolazione bilineare a stimare questi delta phi e delta lambda da poter poi applicare questo è tutto ciò che ci diciamo che ci interessa per la parte planimetrica se avete ancora un pochettino di pazienza passerei alla parte altimetrica e poi farei una pausa ci sono delle domande nel frattempo? no sembra di no ok perfetto allora andrei ancora un attimo avanti se siete d'accordo e poi farei una pausa direi proviamo a chiudere il discorso considerando anche sistemi di riferimento altimetrici fino adesso abbiamo parlato di planimetria ci rimane un problema assolutamente non banale che è quello di capire che cos'è per noi l'altezza che è la componente verticale che è avevamo detto all'inizio beh l'elevazione si misura rispetto al geoide bene è proprio vero no assolutamente questa roba è un'altra affermazione che potrebbe un pochino preoccuparvi vediamo il perché perché abbiamo definito come il geoide quella superficie equipotenziale della forza di gravità che passava per il livello medio del mare inquieto e depurato di moti ondosi da un punto di vista implementativo avevamo anche trovato quell'equazione un po' bislacca che ci creava anche un po' paura che rappresentava una sorta di solido teorico che rappresentava la terra in cui la superficie era determinata dalla normale in cui ogni punto rappresenta la direzione della gravità quindi la normale era la direzione della gravità quindi in realtà tra tutte le varie superfici equipotenziali ad esempio che sono quelle puntinate qua in giallo io ne scelgo una che è quella arancione che approssima la superficie terrestre la linea rossa in maniera migliore perché? perché è quella che passa per il livello medio del mare inquieto questa definizione è quella che tendenzialmente abbiamo sempre studiato che abbiamo affrontato che troviamo anche su internet dappertutto allora cosa faccio? la prima cosa che potrei fare è capire che forma ha questo geoide agli studenti di solito racconto che questo geoide è un patatone cioè un qualche cosa che non ha una superficie liscia bella continua ma è un qualche cosa di rugoso un po' deformato un po' bislacco e che lo riesco ovviamente come abbiamo detto prima a disegnare solo se riesco a fermarmi ad un certo ordine e grado perché è esprimibile tramite sviluppo in serie armoniche sferiche questo qui è ad esempio la rappresentazione del geoide globale legge M96 dove quello che io disegno in realtà non è il vero e proprio valore di geoide ma è la differenza la distanza che c'è tra la superficie ellissoidica e la superficie ortometrica cioè la cosiddetta ondulazione del geoide che valore ha su tutto il globo l'ondulazione del geoide per definizione a media nulla ma ci sono delle aree tendenzialmente quelle nelle aree montuose dove il valore di n è positivo nelle aree marine o immerse o sommerse il valore è negativo ovviamente al variare degli anni come abbiamo visto migliorano le tecniche di posizionamento e le tecniche di stima di queste superfici per cui dal 96 si passa ad un ulteriore stima sempre dello stesso modello di geoide nel 98 qua iniziamo a vedere una rappresentazione non tridimensionale ma bidimensionale quasi come se fosse una cartografia e vanno a mano che aumentano gli anni cambiano anche in questo caso i modelli di geoide ad esempio l'EGM si arriva dal 96 al 2008 frutto di migliore risoluzione migliore tecniche di stima e quindi una migliore descrizione qual è il problema che ovviamente se io lo voglio fare a scala globale dovrei determinare la componente gravimetrica su tutti i punti di tutto il globo cosa che è effettivamente abbastanza complessa sia da un punto di vista pragmatico proprio pratico che dal punto di vista computazionale allora si stima un modello di geoide a scala globale quali ad esempio gli EGM che hanno una certa tipologia di risoluzione che però per molte applicazioni pratiche non hanno una risoluzione ad un'accuratezza sufficiente e allora che cosa succede che gli si stima a scala globale e poi li si va a localizzare cioè si va ad infittire queste misure a scala nazionale questo ad esempio è il modello c'è un modello di geoide italiano che è stato calcolato dal Politecnico di Milano e poi validato dall'Istituto Geografico di Militare che è molto più dettagliato molto più risoluto rispetto al precedente quindi è una spezzatura della griglia di due primi sia in latitudine che in longitudine e ha un'integrazione di misure che non è solo quelle satellitari come ottenute in precedenza occhio che quando dico misure satellitari per stima di geoide non intendo certo GPS ma si usano delle altre tipologie di tecniche ma oltre a quelle tecniche satellitari è stato integrato con misure GPS o GNSS e livellazione e ci permette di arrivare ad una stima di precisione complessiva di tre centimetri su tutta l'area italiana ovviamente a un modello di geoide locale non ha media nulla perché deve essere coerente con quello a scala globale ma è solo migliorato da un punto di vista delle stime di ondulazione del geoide vedete che ad esempio in questo caso il colore blu non è negativo perché il valore di ondulazione del geoide in Italia varia tra i 27 metri in Calabria e i 55 metri quindi è sempre un valore positivo tuttavia ha una risoluzione migliore ed è quello che è ad oggi implementato nei cosiddetti grigliati dell'Istituto Geografico Militare che poi Stefano ci farà vedere nella sua implementazione quindi questi geoidi sono noti come sviluppi in serie doppie armoniche quindi anarmoniche sferiche ad oggi fino ad ordine e grado 3600 ok e vengono resi disponibili su griglie equispaziate che sono vendute dall'Istituto Geografico Militare e che costituiscono ad oggi l'unica modalità coeretta e coerente per la trasformazione di altezze elissoidiche in quota ortometrica quindi la definizione di elevazione è la direzione ortogonale alla superficie nel punto di nostro interesse rispetto alla direzione di gravità in realtà questa attenzione che non coincide con la normale rispetto alla superficie elissoide questo introduce ovviamente un problema che qui in mezzo si forma un angolino per quanto piccolo esso sia e che quindi ho tre superfici da considerare ho la superficie terrestre ho il mio elissoide matematicamente interessante ho il geoide che è fisicamente interessante e quindi devo capire a cosa devo riferirla a componente altimetrica occhio ad una cosa come avevo definito il geoide come quella superficie qui potenziale passante per il livello medio del mare inquiete è un problema però è un problema perché perché io a questo punto per valutare la componente altimetrica io devo o quantomeno ho la possibilità di usare tre componenti altimetriche o le quote ortometriche ad esempio rilievi terrestri tipo livellazione oppure altezze elissoidiche oppure la definizione di livello medio del mare questo è una definizione che è anche ma non solo implicita nella definizione di geoide cioè se voi vi ricordate il livello medio del mare vuol dire che io devo avere una definizione di zero che è data dal cosiddetto mareografo è una definizione abbastanza pericolosa perché se noi andiamo a vedere che cos'è un mareografo lui ci dice beh in realtà l'altezza media del mare è quella che viene definita come zero nel punto del mareografo e poi da quel punto lì io parto con tutta la mia rete di livellazione per la parte di Italia peninsulare il mareografo di riferimento è il mareografo di Genova poi io sono ligure quindi mi fa sempre piacere ricordarlo per la parte Sicula c'è il mareografo di Catania per la parte sarda c'è il mareografo di Cagliari ma questi non sono gli unici mareografi che io a livello italiano perché devo comunque e dovevo soprattutto in passato garantire la diciamo la correttezza e l'uniformità di questi zeri e ovviamente però se io fossi partito da Genova avessi camminato sul mare con dei poteri sovranaturali per arrivare a Cagliari avrei dovuto ottenere zero fino a qualche anno fa questo problema non ce lo saremo posti adesso con le tecniche satellitari questo problema ce lo iniziamo a porre e non solo quello ma ce ne poniamo un altro perché ammettiamo che io parto da Genova zero per l'Italia e voglio andare a fare un'infrastruttura in Francia ad esempio un traforo o un'infrastruttura qualunque essa sia in realtà per i francesi lo zero è riferito a Marsiglia al mareografo di Marsiglia quindi se io camminassi da Genova parto a quota zero faccio tutta la mia linea di livellazione arrivo a Marsiglia e mi aspetterei di trovare zero mannaggia che questo zero non è un vero zero ma ottengo un valore diverso da zero che cosa vuol dire questo? vuol dire che mannaggia è un problema io parto da un mareografo da uno zero e arrivo ad un altro mareografo che dovrebbe essere zero ma non ottengo zero e quindi il dislivello non essendo nullo vuol dire che non c'è un'interoperabilità di questa di questo sistema di altezze a livello continentale guardate in questo slide ad esempio la definizione di altezza media del mare per i vari continenti tra Italia e Francia ci sono parecchi che cosa vuol dire? vuol dire che in realtà la definizione di geoide o di livello medio del mare non mi va più bene perché è un grosso problema e allora devo andare verso quello che è il sistema di riferimento verticale a livello europeo cioè devo far sì di garantire l'interoperabilità della componente altimetrica a livello europeo esattamente in maniera analoga di quello che sto facendo per la parte planimetrica e allora si va verso quello che è l'EVRS che è una stima non più a scala locale ma a scala continentale delle non dei livelli medi del mare ma delle componenti gravimetriche cioè si passa da una definizione pragmatica di livello medio del mare a una componente gravimetrica in questa slide vi ho riportato un link dal quale potete trarre qualche maggiore dettaglio relativa all'ultima versione che è quella dell'EVRF European Vertical Reference Frame dove F è nuovamente frame cioè la materializzazione del 2019 occhio che questa dovrebbe diventare lo standard e l'unico sistema di riferimento verticale ufficiale a livello europeo e si vuole far entrare anche esso nella direttiva INSPIRE quindi essere normato a livello europeo in questa slide vi ho riportato un link qualunque dettaglio lo trovate a questo diciamo a questo sito internet vi consiglio soprattutto da un punto di vista professionale di continuare a tenere sott'occhio anche queste informazioni perché da un punto di vista professionale non sono assolutamente banale una maggior diciamo un maggior riscontro dal punto di vista l'impatto del non zero dei livelli medi del mare è dato dalla sea surface topography che è riportato in questa slide cioè quanto varia la topografia o comunque il livello medio del mare al variare del Mediterraneo occhio perché il Mediterraneo sebbene venga definito mare sembra più un grosso lago in realtà questo è un'istantanea di un momento la domanda importante però è capire effettivamente ma ha ancora senso parlare di geoide cioè il livello medio del mare ha ancora un suo senso il mio bel granchietto qua sotto come fa a capire qual è la sua quota deve sempre fare riferimento al livello medio del mare ma se ci sono le onde in realtà è un problema ma se il mare ha salinità diverse è un problema ma se cambiano le condizioni al contorno cosa vuol dire condizione al contorno pensate un po' ai cambiamenti climatici io guardo prendo un mareografo ad esempio questo di Charleston negli Stati Uniti e guardo il livello medio del mare e la sua variazione nell'ultimo secolo vedo che è di 0,4 metri su 100 anni prendo sempre nel golfo del Messico a Galveston un altro mareografo e dico beh più o meno sono coerente ne prendo un altro al confine con nelle zone canadesi in Alaska e dico cavolo dalla parte opposta esattamente il contrario cioè un trend completamente negativo il livello medio del mare non è un buon modo per determinare lo 0 per definire lo 0 e quindi per definire il sistema di riferimento altimetrico allora quello che si fa non è più andare a considerare il geoide come superficie media del mare inquieto lo devo definire in una maniera migliore devo andare a passare da un concetto di ellissoide ad un concetto un pochettino diverso che è il cosiddetto concetto di telluroide cioè non considerare più le quote riferite al livello medio del mare ma devo andare a considerare i numeri o le altezze geopotenziali cioè devo introdurre un'ulteriore superficie di riferimento che è il cosiddetto telluroide che mi permette di andare a stimare le cosiddette anomalie d'altezza e le altezze normali per fare sì che io possa essere coerente a livello europeo voi mi direte beh in realtà questa equazione è esattamente uguale a questa cambiano un pochettino il nome dei segmenti cambiano un pochettino le differenze cosa c'è di diverso solo un disegno no c'è proprio il concetto dietro che è diverso io stimo molto meglio zita rispetto a n perché zita deriva da misure gravimetriche superficiali ok quindi non mi baso più sul concetto medio del mare ma mi baso su misure gravimetriche e quindi introduco una nuova superficie che è il cosiddetto telluroide questo ovviamente mi permette di essere coerente a livello non solo italiano ma anche a livello europeo da un punto di vista dell'implementazione che cosa accade pressoché niente di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino a poco tempo fa io ho sempre nuovamente delle griglie i cosiddetti grigliati e ho per ogni nodo della griglia dei valori di non più ondulazione delle geoide ma avrò dei valori di anomalie d'altezza dopodiché io interpolo questi valori e riesco a effettuare una conversione tra un'altezza ellissoidica a capiccolo e un'altezza normale così come posso continuare a fare le conversioni tra altezze ellissoidiche e quote ortometriche perché questa è sempre uguale posso uguagliare le due equazioni e quindi creare una relazione tra altezze ellissoidiche altezze normali e quote ortometriche questo nell'ottica di ritornare ai concetti di gravità che abbiamo visto all'inizio di questa presentazione dove g è la vera gravità e gamma è la gravità normale che era quella riferita all'elissoidica ovviamente avendo questa tipologia di grigliati io posso effettuare le conversioni in una maniera rigorosa come utilizzando un software che è quello che ci farà vedere poi Stefano che ci permette non solo di trasformare di convertire coordinate o shape file o file dei sistemi di riferimento diversi ma anche di componenti altimetriche diverse ok questo è bene o male quello che vogliamo fare occhio che le trasformazioni tra sistemi di riferimento non sono tutte corrette la modalità otf la cosiddetta on the fly ovvero al volo è una modalità molto pericolosa quella più rigorosa è quella dell'utilizzo di grigliati ad esempio i GK1 i GK2 che sono quelli rilasciati dall'istituto geografico militare ma attenzione che sta sempre prendendo più piede anche la modalità di grigliati NTV2 che è un formato nato in Canada un formato canadese che sta diventando si sta affermando come uno dei possibili standard a livello internazionale questi grigliati non li usate a mano non li usate su fogli di calcolo ma devono essere inserite all'interno di software dedicati quale ad esempio Verto Cartlab o Convergo per far sì che possano essere considerati in maniera corretta quindi perché l'utilizzo dei grigliati con questo poi chiudo perché intanto le deformazioni non sono una formula perché non lo è neppure il geoide rispetto all'ellissoide e ultima cosa occhio che un cambio di un sistema di riferimento non può essere ridotto ad una mera rototraslazione con variazione di scala le cosiddette trasformazioni a sette parametri perché in quei sette parametri non c'è nulla di fisico spero di non avervi tediato troppo io direi che posso interrompere qui la ci sono un paio di domande e poi andiamo in cinque minuti di pausa volentieri allora innanzitutto volevo notarmi servizio per chi non ha ancora visto la chat ho messo sul link al pde allo zip con le presentazioni di Paolo e di Federico e poi anche il software Convergo che useremo dopo ne parliamo poi in maniera più 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 estesa e quindi chi l'ha scaricato lo riscarichi lo zip così si trova anche Convergo non c'è Convergo è stato fatto dall'ingegnere C ma è solo per Windows non per Linux chi ha bisogno di usare quei grigliati appunto li può comprare dall'Igm si possono implementare anche dentro dentro QGIS per cui la riproiezione al volo viene fatta invece per una riproiezione rigorosa seppur al volo Luca Mandolesi chiede ma quando un ente statale ti chiede di segnalare la quota precisa senza darti indicazioni che cosa è meglio inserire? Intanto il problema sta nel manico perché il termine di precisa non vuol dire nulla dal punto di vista proprio pragmatico in realtà l'unica componente altimetrica che bisogna fornire è la cosiddetta quota ortometrica non siamo ancora pronti a livello italiano ahimè per andare verso le altezze normali quindi l'unica cosa che io mi permetto di suggerirvi è quella di se fate misure con strumentazione satellitare GNSS utilizzare il software Convergo o Verto o Cartlab i grigliati e passare da altezza lisoidica a quota ortometrica io spero che in breve tempo si adeguerà a quello che è la normativa non la normativa perdono lo standard a livello europeo perché non possiamo più far finta di niente bisogna assolutamente andare a essere coerenti e compliant con quello che sta avvenendo attorno a noi non siamo gli unici che sono un po' indietro siamo in tanti che siamo indietro però il fatto di sensibilizzare all'esistenza di questi sistemi di riferimento è un modo anche per iniziare a prendere diciamo non dico conoscenza ma da far sì che ci rimanga un pochino nelle orecchie che esistono e che bisognerà prima o poi adeguarsi occhio che anche in ambito GIS soprattutto quando poi andremo a vedere le parti di 3D la parte altimetrica non potrà più essere diciamo trascurata per cui bisognerà assolutamente pensare di considerare l'appropriato sistema di riferimento per la planimetria ma poi ci sarà anche quello per la parte altimetrica altra domanda Massimiliano dice ma le misure gravimetriche non dipendono da poi da quello che ho sotto quindi ho anomalie o anomalie controllate ad esempio da differenze di densità nella ritrosfera o nel mantello della terra beh ovviamente nel momento in cui uno fa misure gravimetriche non basta solo quello cioè ci sono quando io vado a localizzare un geoide ho tutta una serie di informazioni ben più complesse che non si limita solo alla parte di gravimetria il modello ad esempio è stato ottenuto con tecniche di remove restore dove parto da misure gravimetriche a livello satellitare poi arrivare alle misure gravimetriche a livello terreno più misure GNSS più misure di livellazione cioè ci sono tutta una serie di tecniche che vanno a fare sì che anche le parti diciamo le analisi di quello che io ho sotto cioè a livello di anomalie magnetiche o le differenze di densità possano essere in parte stimate e comunque tenute in considerazione nel momento in cui si va a diciamo a ricalcolare un modello di JOID locale molto più preciso quindi sicuramente sì dipendono anche da quello e altra domanda chiedo scusa mi sono mi hanno disciato un secondo vi chiedo scusa le differenze di trasformazione di modalità on the fly di che entità di grandezza possono essere facciamo faccio vedere una dato un esempio dato 6-7 punti che ho messo assolutamente a caso in sistema IPSG 3003 quindi Montemario l'ho poi trasformato con convergo con i grigliati senza grigliati e con invece con la riproiezione al volo di QGIS e devo dire che mi ha stupito molto c'è propria differenza poi ripeto come ha detto Paolo a livello di cose nostre GIS possiamo anche dire che sono forse trascurabili però è bene sapere di che entità sono ve lo faccio vedere link di là Massimo chiede dal geoportale di regione Lombardia scarico uno shapefile in 32 632 quindi UGS 84 UTM 32 Nord di conseguenza uso questo sistema come comodo anche per calcolare alle planimetriche non lissoidiche però avevo letto una nota dell'Igm e non riconosceva questo sistema di riferimento no non lo riconosce proprio per quel motivo lì perché non lo è perché non lo è perché non esiste perché non lo è perché non esiste esatto diciamo che è un non così buon modo di fare che abbiamo preso noi quando soprattutto anche utilizziamo magari dei software GIS perché la prima cosa che ci viene in mente è butto UGS 84 UTM 32 in realtà non è proprio così abbiamo insomma spero di avervi lasciato qualche dubbio in questo devo dire che la l'Igm questo ve lo dico perché ho partecipato anch'io all'inizio quando è uscito il DM non è che la seconda cosa che ha pensato di fare fosse quello di registrare attraverso presso le PSG quindi presso l'organismo i nuovi i nuovi il nuovo sistema RDN 2008 diciamo che abbiamo così un po' un po' insistito come regioni affinché facesse questa richiesta ufficiale perché per le applicazioni di IBM quindi di biodetica di alta precisione avere i PRG diciamo che viene frega abbastanza poco insomma quindi come dire quando loro dicono il 32 632 non esiste è proprio vero perché dal loro dal punto di vista del geodetico come ha spiegato Paolo non è quello da usare però piano se fossimo in una nazione normale avremmo già abbandonato tutti Montemario senza contare anche le D50 che alcune pubbliche amministrazioni utilizzano che sono proprio balorde che fa veramente rappresentare tutte le volte il sostante è pure legge è vero è vero ma come appena detto Paolo essendo le differenze veramente come dire dal punto di vista delle applicazioni GIS non cartografiche GIS sono trascurabili oggi andiamo avanti certo è che però quando in un devi fare per esempio hai bisogno di avere il il vettoriale dei punti delle stazioni permanenti beh che sono espresse dire già in RDN 2008 adesso poi in geografico poi in etate questo è un altro discorso è chiaro che non possiamo mettere i 32 632 che ti servono proprio per di riferimento e quindi devono essere per forza pubblicati ci fermiamo 5 minuti Paolo domande se no ci fermiamo 5 minuti 10 minuti insomma tempo di io che sono per lavorare sui progetti in zona nord Italia ecco chiede Matteo io che sono neofita questo è un riferimento mi consigliate per lavorare sui progetti in zona nord Italia direi l'RDN 2008 quindi adesso non mi ricordo memoria e codici e PSG che sono già ormai presenti nelle ultime versioni sicuramente di QGIS perché anche Argis utilizza le librerie esterne per quanto riguarda il riferimento le librerie ProJ e le librerie ProJ già da un anno forse due ha nella propria database il RDN 2008 in tutte le sue declinazioni diciamo quindi di usare quella però se ovviamente uno come Matteo dice se io sto lavorando con un ente pubblico è chiaro che poi uno si non può essere adeguare magari alle basi dati che hanno loro cioè non è che si possa fare i duri e i puri sempre però l'RDN 2008 che adesso recupero vi recupero poi un articolo diciamo i confronti proprio fatti bene sui vari sistemi che riprende anche quella nota dell'Igm che aveva citato credo Massimo Ficaroli insomma ve lo metto poi in chat ok 6-7 6 sono quelli Fede mi sa di no sai non mi ricordo non mi ricordo adesso li recupero ok ci vediamo fra dieci minuti ci vediamo alle cinque ok ok bene ci sono domande su quello che abbiamo visto prima o possiamo andare avanti qualora ci fossero domande anche sulla parte vista prima con con Paolo non fatevi problemi potete scriverle in chat e vedremo di dare una una risposta quello che vedremo ora è velocemente come si gestisce come si gestiscono i sistemi di riferimento all'interno dei software GIS in particolare vedremo con QGIS quali sono alcuni accorgimenti che bisogna tenere in considerazione quando carichiamo i nostri dati all'interno del progetto successivamente poi con Stefano invece andremo a vedere tutta la parte di utilizzo di trasformazioni utilizzando i i grigliati e il software che abbiamo messo a disposizione nel link alla pagina di GIFOS sull'incontro di oggi c'è un link già presente con tutti i materiali delle le slide di Paolo le mie e anche poi i materiali che serviranno poi per la parte di Stefano Campus le cose che vedremo adesso sono alcune appunto accortezze che bisogna in parte già visto durante il seminario introduttivo il primo evento di questo ciclo di workshop spaziali quindi per qualcuno forse sarà una ripetizione però diciamo che è ripetita Juvent in questi in questi casi allora condivido lo schermo così abbiamo una piccola presentazione che mi è utile quando lavoriamo con i dati spaziali all'interno dei nostri software GIS tanto QGIS che ARGIS che UVSIG eccetera dobbiamo sempre ragionare in due modi o parliamo di sistemi geografici in cui ragioniamo con la terra sferica Paolo ci ha appena detto che non è una sfera ma per praticità ragioniamo con la terra sferica e le misure sono angolari quindi tutto il nostro sistema di coordinate è espresso in gradi di distanza da quattore e da un meridiano zero oppure possiamo lavorare con sistemi invece proiettati quindi passiamo dalla dalla sfera al piano quindi andiamo a lavorare diciamo su un foglio sulla terra piatta per così chiamarla e ragioniamo in metri quindi tutte le misure che faremo su questo piano saranno in metri di distanza da un determinato meridiano zero e dall'equatore ovviamente quando andiamo a svolgere la nostra sfera sul piano andiamo ad introdurre come ho visto delle distorsioni in funzione della proiezione che andiamo ad utilizzare andiamo ad introdurre delle distorsioni diverse ricordatevi sempre che sistemi geografici unità di misura è il grado sistemi proiettati invece utilizziamo i metri ricordatevi anche che nel passaggio tra gradi e metri dovete ricordarvi che un grado all'equatore ha una corrispondenza in metri ben diversa di un grado vicino ai poli o alle nostre latitudini quindi state attenti a questa conversione per muoverci all'interno dei mille sistemi di riferimento che ci sono a livello mondiale è stata fatta una codifica questa codifica si chiama EPSG European Petroleum Survey Group di fatto questa codifica ha assegnato un codice univoco ad ogni sistema di riferimento che permette appunto un suo utilizzo e una sua diciamo chiara determinazione se io devo parlare con Paolo e dobbiamo accordarci su un sistema di riferimento non è che ci mettiamo a dire ti mando in Montemario Fuso 32 eccetera est o ovest Gauss Boaga andiamo direttamente con i codici EPSG che identificano in maniera univoca questi sistemi di riferimento trovate tutta la tutto l'elenco questo tutto il database di EPSG su siti tipo spatialreference.org oppure EPSG.io che appunto mostrano anche dove questi per che aree del mondo sono validi questi EPSG in Italia qui ho provato a riassumere brevemente quelli più utilizzati e quelli che comunemente si trovano se lavorate con il con il web sicuramente uno dei più diffusi è il 3857 che è lo pseudomercator è quello che viene utilizzato comunemente nelle web per i dati di di Google di Bing eccetera poi abbiamo il 3003 e il 3004 che appunto sono questi obsoleti che vi ho detto che non si devono più utilizzare perché sono stati sostituiti dal dalle TRF 2000 che però sono comunemente molto in voga in ancora in Italia le pubbliche amministrazioni li usano normalmente poi Stefano ci dirà magari ci dirà un po' lo stato dell'arte di 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 cosa richiede la pubblica amministrazione abbiamo detto poi il WGS 34 UTM 32N che comunque anche se abbiamo visto non è corretto è un sistema che viene che si che si usa comunemente il 4326 che è il WGS 84 geografico valido per tutto il mondo diciamo che se dobbiamo lavorare con dei dei dati che non riguardano solo l'Italia il 4326 diciamo che che ci che ci aiuta moltissimo in in questo è un sistema di un sistema geografico quindi tutte le misure sono in grado se invece dobbiamo lavorare con dati globali ma vogliamo un sistema proiettato ecco lì un po' bisogna vedere le esigenze che si hanno io lavoro spesso con la 54009 che è la che è worldwide appunto è un sistema proiettato a livello a livello globale mentre poi 6707 6708 e 6706 invece corrispondono alle TRF 2000 le prime due corrispondenti al fuso 32-33 quindi abbiamo un sistema che si basa su sull'UTM ed è la quale unità di misura è il metro mentre la 6706 è in gradi lungo di misura sono i gradi ricordatevi che è molto importante saper scegliere i sistemi di riferimento corretti per poter fare poi le nostre analisi vi racconto questo aneddoto che è successo nel 2003 l'Economist aveva pubblicato una mappa con il raggio con la portata legittata missilistica dei missili della Corea del Nord ve la faccio breve aveva detto ah ma se queste sono legittate dichiarate come vediamo in questa prima mappa non dobbiamo preoccuparci troppo perché arrivano a colpire l'Alaska il Medio Oriente ma di sicuro non arrivano a colpire gli Stati Uniti o l'Europa quindi possiamo stare tranquilli se non che avevano proprio sbagliato a utilizzare la proiezione e infatti sono stati sommersi da 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 in questo senso e effettivamente andando a rifare la medesima analisi con il sistema di riferimento corretto si è visto che in realtà questa la gittata missilistica nordcoreana insomma vediamo che se prima nella prima immagine non arrivava neanche a momenti in Alaska ecco in realtà sarebbero riusciti a colpire mezzo mondo quindi è importante utilizzare i sistemi corretti per rappresentare i nostri dati per fare poi le nostre analisi curiosità adesso prima di arrivare al software prima vi dicevo che quando vi parlavo dei sistemi di riferimento geografico proiettati di base c'è sempre l'equatore e poi un meridiano zero convenzionalmente noi usiamo Greenwich per una serie di motivi non tutti e non sempre si usa Greenwich anzi il problema della longitudine è stato un problema che ha afflitto le nostre cartografie e i nostri spostamenti moltissimo nei secoli passati tant'è che nel settecento il parlamento inglese aveva offerto una ricompensa a colui avesse costruito un sistema per riuscire a calcolare la longitudine in mare perché sulla terraferma era abbastanza semplice avendo dei punti di riferimento ma in mezzo all'oceano con le esplorazioni marittime non si avevano dei punti di riferimento visibili per poter calcolare la longitudine mentre la latitudine era abbastanza semplice perché non è stato a misurare l'altezza dell'orizzonte la longitudine no cioè il circolo massimo che attraversa i paralleli è 1 mentre tutti i meridiani possono essere validi come punto 0 chi riuscì a vincere questo premio? riuscì dopo svariati tentativi John Harrison un orologiaio inglese che costruì nel 1759 un cronometro l'H5 l'Herson 5 conservato a Greenwich dove c'è anche il museo del tempo oltre che la striscia la placca d'ottone con il meridiano c'è anche a fianco il museo del tempo non a caso perché tutto il calcolo della longitudine si basa proprio sul tempo e John Harrison era riuscito a costruire un orologio un cronometro che nonostante i mesi di navigazione il video della barca la stessa sedina eccetera riusciva a mantenere l'ora corretta perché perché l'ora perché noi dobbiamo per calcolare la longitudine dobbiamo avere un orario di riferimento un fuso di riferimento in questo caso l'ora di Londra se io so che a Londra è mezzogiorno io posso vedere nel punto del mondo dove sono che ore sono perché appunto posso vederlo calcolandomi l'ora locale dalla differenza tra l'ora locale e l'ora di Londra io che cosa ottengo ottengo la distanza in longitudine perché perché sappiamo che il sole si sposta passatemi questa semplificazione si sposta attorno alla terra di 15 gradi all'ora ovviamente il sole non si sposta che si è messo agli atti quindi in qualsiasi momento io posso calcolarmi l'ora locale con esattezza e calcolare l'ora la differenza con l'ora di Londra o con l'ora del mio punto di riferimento in questo modo ho bisogno di un orologio che non perda l'ora e questa è stata abbastanza una rivoluzione perché con altri esperimenti che erano stati fatti precedentemente con altri orologi non si erano dimostrati all'altezza immaginatevi questi viaggi in giro per il mondo di anni di mesi è facile che un orologio perda un'ora di abbia uno scarto di un'ora alla fine di anni di navigazione lo scarto di un'ora vuol dire un errore di 15 gradi e l'errore di 15 gradi lo vedete in questa immagine che ho preparato uno pensa di essere arrivato a Londra e in realtà è in Croazia ancora quindi immaginatevi che problema che problema è e l'importanza di questo significava essere in grado di calcolare la longitudine in mare aperto voleva dire anche avere il dominio assoluto dei mari per cui le rotte sarebbero state molto più semplici da seguire e infatti l'Inghilterra è stata poi la nazione che ha dominato i mari anche perché aveva tecnologie di questo tipo pensate che l'H5 ha viaggiato con il capitano James Cook che una volta tornato a Londra si espresse in paio di molto favorevoli su questo strumento su questo orologio il premio fu conferito dunque a John Harrison poi ovviamente vista la somma gigantesca che avevano messo in palio il Parlamento inglese ha trovato mille scuse per non pagarla tutta fatto sta che comunque John Harrison orologiaio londinese riuscì in questa impresa questa storia e molte altre sono descritte in un libro secondo me bellissimo che si chiama Longitudine scritto da Dava Sobel che trovate in tutte le librerie e vi consiglio una lettura molto scorrevole e molto divertente quindi qui abbiamo la nostra Longitudine a Londra trovate fuori Londra l'osservatorio di Greenwich dove c'è la placca che appunto segna il passaggio del meridiano zero e il museo del tempo il meridiano zero di Londra è molto importante non solo perché è nostro meridiano zero ma soprattutto per l'antimeridiano perché l'antimeridiano di Greenwich rappresenta la linea di cambiamento di data quindi assolutamente fondamentale che la linea di cambiamento di data per esempio non passi in mezzo all'Europa perché immaginatevi che adesso avremmo se fosse la linea di cambiamento di data che passi per l'Italia per Montemario avremmo metà l'Italia in cui è venerdì e l'altra metà l'Italia in cui è sabato e questo sarebbe un problema mentre l'antimeridiano casca proprio in mezzo al Pacifico e quindi le persone colpite da questo disagio sono per fortuna poche ricordatevi che non è sempre stato Greenwich il meridiano zero ce ne sono stati molti quello più famoso era quello che passava per l'isola del ferro nelle Canarie che era un meridiano che era molto comodo a chi fondamentalmente agli spagnoli perché dovevano fare tutta la cartografia del loro impero e anche tutti i territori di oltremare e il meridiano passante per le Canarie per l'isola del ferro era un meridiano molto comodo poi cos'è successo la sconfitta dell'invincibile armata spagnola da parte degli inglesi ha segnato il declino della della storia marittima spagnola e si è imposto il meridiano il meridiano di Greenwich nel 1884 poi questo meridiano è stato adottato dalla comunità internazionale come meridiano zero per per tutti anche soprattutto per tutta la questione dei fusi orari che fino a prima non era un problema poi con l'avvento dei treni con la velocizzazione dei trasporti ci si è resi conto che si arriva a avere una codifica anche dell'ora il meridiano zero passante per l'isola del ferro quindi è stato dimenticato da quasi tutti tranne che dall'impero austro-ungarico che ha continuato ad utilizzarlo fino alla prima guerra mondiale compresa quindi se noi adesso andiamo a prendere le cartografie militari dell'impero austro-ungarico della prima guerra mondiale vedremo che la longitudine è riferita non a Grimic come le altre cartografie europee ma all'isola del ferro questo perché perché Carlo V imperatore del Sacro Romano Impero che era Carlo I di Spagna era sia imperatore di Spagna che del Sacro Romano Impero quindi aveva adottato il meridiano zero della cartografia spagnola poi la Spagna ha adottato Grimic mentre l'impero austro-ungarico l'ha tenuto fino al 1918 infatti dopo la sconfitta della prima guerra mondiale i vincitori hanno imposto il cambio di meridiano all'Austria-Ungheria e da allora non non è più utilizzato da nessuno almeno che io sappia a parte queste note storiche ricordatevi sempre che passare da una sfera al piano quindi con la proiezione introduce per forza delle distorsioni abbiamo qui due mappe la prima sulla sinistra è la carta di mercatore mentre sulla destra abbiamo la cora di forme di Bern e vedete che le le terre emerse si presentano in modo totalmente diverso con delle con delle distorsioni che si accentuano all'allontanarsi dall'origine della della proiezione per cui ci troviamo con l'Agroenlandia che sembra grande più dell'Africa quando in realtà è molto più piccolina e quindi abbiamo queste distorsioni molto accentuate ogni proiezione ne introduce qui vi ho provato a mostrare alcune delle deformazioni a cui potremmo andare incontro quindi ricordatevi sempre che quando andiamo a creare della cartografia dobbiamo andare a scegliere in maniera corretta la proiezione e il sistema di riferimento che minimizza queste distorsioni poi nello specifico per queste proiezioni ci sono poi gli indicatori di Tissot che ci vengono in aiuto per misurare queste distorsioni ma qui adesso non entriamo nel dettaglio sennò davvero non ne usciamo questa è c'è un altro sito che vi consiglio di andare a guardare per capire meglio queste tematiche che è detrusize.com che ci permette di prendere degli confini statali di spostarli all'interno della proiezione di mercatore vedere come questi si distorcono funzioni dove si sposti nel primo esempio vediamo l'Italia rispetto alla Groenlandia nel secondo caso invece è la mappa della Colombia sono i confini della Colombia che sono spostati in Europa uno si immagina la Colombia come un piccolo staterello vicino all'equatore in realtà se lo riportiamo su sulle nostre latitudini europee vediamo appunto come questo si deformi e che in realtà sia grande come mezza Europa appunto non esiste una proiezione che non introduca una distorsione come diceva appunto Paolo prima dobbiamo appunto scegliere le proiezioni che ci che ci aiutano a mostrare meglio il nostro il nostro territorio perché usiamo mercatore e poi andiamo su QGIS perché in con la proiezione di mercatore le osodromiche sono delle rette quindi in navigazione se io devo tracciare la rotta per andare da Lisbon a Nuova York traccio una linea retta e non devo andare col compasso ad utilizzare a fare formule strane per calcolarmi l'arco la rotta da seguire quindi immaginatevi la rivoluzione anche che è stato storicamente l'introduzione di questa proiezione di Gerardo mercatore per cui in navigazione non bisognava più andare a tracciare degli archi usare i compassi ma bastava una linea retta ed era la rotta da seguire quindi per questo motivo mercatore è assolutamente la proiezione più utilizzata per questi per questi scopi per la navigazione sia marittima ma anche aerea ed è appunto la chiave del successo di questa di questa proiezione bene se non ci sono domande aprirei il software scusami scusami ci sono un paio di domande la prima era di Dante che era relativamente alla tua parte introduttiva che dice la funzione dello psicologo come da lui chiamato quel passaggio del webinar precedente la potresti rispiegare in un'altra sì certo adesso andiamo a vedere e poi ce n'era un'altra no sì era quella poi sul 3857 abbiamo risposto ok ok perfetto allora due due cose quando apriamo QGIS vedete che questa è l'interfaccia l'interfaccia mia abbiamo i nostri progetti recenti vi volevo mi volevo però soffermare nell'angolo in basso a destra che è EPSG 4326 cosa vuol dire che quando io apro QGIS di default il mio canvas della mappa prende adotta un sistema di riferimento che in questo caso è l'EPSG 4326 questo di di base volendo si può cambiare cliccando cliccandoci sopra ma vediamo cosa succede quando vado a caricare un dato adesso apro nella mia cartella carico un dato del del Veneto in EPSG 3003 se lo aggiungo mi dice ah devo fare questa trasformazione vedete che il sistema di riferimento del mio progetto questo è il sistema di riferimento del progetto QGIS è cambiato ed è diventato 3003 quindi QGIS imposta come sistema di riferimento di default del progetto il sistema di riferimento del primo layer che carico all'interno dopodiché tutti i layer successivi anche se in sistemi di riferimento diversi che vengono caricati verranno riproiettati on the fly quindi verranno riproiettati al volo e il sistema di riferimento che ti manda sarà quello del primo layer caricato quindi qui abbiamo già una prima cosa che adesso andremo a vedere eventualmente come si può impostare in maniera diversa abbiamo caricato il nostro layer si è posizionato nel posto giusto possiamo andare a vedere per esempio caricando una base map di OpenStreetMap eccoci qua vedete che effettivamente il veneto si è posizionato correttamente nel nella nella mia nel mio spazio e se voglio andare a vedere il sistema di riferimento di questo layer posso andare a utilizzare le proprietà del layer come si arriva tasto destro sul layer proprietà abbiamo già visto queste cose nel seminario introduttivo di workshop spaziali quindi vado abbastanza rapido su questi temi e vedete che nella finestra informazioni abbiamo una serie di indicazioni utili dal percorso dove viene pescato questo shapefile al tipo di geometria al sistema di riferimento vedete EPSG 3003 Montemario proiettato mi dà l'estensione la bounding box del mio layer e mi dice che l'unità di misura sono i metri perfetto quindi tutti i conti che farò con questo layer avranno come unità di misura il metro e qualora il sistema di riferimento non fosse definito in maniera corretta e il mio software problema di librerie perché ma anche il file PRJ eccetera non dovesse assegnare il sistema di riferimento corretto posso andare a settarlo utilizzando una funzione che c'è in sorgente vedete che qui abbiamo sorgente e abbiamo sistema di riferimento assegnato al layer e in questo da questa finestra qui vedete che ho l'EPSG 3003 Montemario e via se invece questo layer non fosse in Montemario ma fosse in un altro sistema di riferimento e quindi per un qualche motivo il software ha sbagliato a interpretarlo posso schiacciando il tasto dove c'è questo cinesino per così chiamarlo se ci clicco sopra posso andare a scegliere il sistema di riferimento andando a cercarlo o per nome o per EPSG più semplice quindi magari voglio andare a vedere il 4326 vedete che cliccando sopra l'EPSG 4326 mi fa vedere qui sotto l'estensione di validità di questo di queste PSG eccetera e posso andare a cambiarlo e quindi in questo caso vado a riassegnare il sistema di riferimento però cosa succede se io lo applico o cielo è sparito perché perché questo layer non è in 4326 ma è in 3003 Montemario se adesso glielo riassegno vedete che il layer ricompare perché perché e qui riprendo la metafora che ho fatto l'altro giorno l'esempio dello psicologo e del e del chirichetto questa finestra della sorgente e la definizione dell'assegnazione del sistema di riferimento tramite le proprietà del layer sono la funzione dello psicologo cosa vuol dire a me arriva un layer che non sa bene chi è non sa bene il suo sistema di riferimento io indagando posso ricostruire le le i sistemi di riferimento l'origine di questo di questo dato e posso andare a riassegnarlo quindi diciamo che qui arriva questa funzione la usiamo se abbiamo un layer confuso che non sa più chi è e allora come degli psicologi dobbiamo andare ad indagare a scavare in questo layer per ridirgli chi è veramente è come se il nostro il nostro Paolo Dabove prendesse un colpo in testa venisse da me e dice Federico non so più chi sono mi chiamo forse Stefano Campus e io dico non so hai una carta di identità hai dei metadati che ti dicono chi sei e allora ricerchiamo finché non capiamo che effettivamente il nostro Paolo è effettivamente Paolo e non è Stefano e a quel punto da qui possiamo riassegnargli la sua vera identità la sua il suo sistema di riferimento spaziale che con cui questo layer è nato viceversa se voglio convertire un layer da un sistema di riferimento a un altro devo usare una funzione del che io chiamo del chirichetto della conversione quindi Paolo arriva da me e dice io da domani voglio essere Stefano e allora io lo converto in Stefano Campus come come si fa tasto destro sul layer esporta salve elementi come quindi andiamo a creare una copia di questo dato possiamo scegliere il formato possiamo andare a dire veneto 4 3 2 6 ok quindi lo trasformiamo in in geografiche gli diamo un nome e qui vedete che mi prende di default il sistema di riferimento dell'input ma posso andarlo a cambiare e posso andare qui a dire 4 3 2 6 vado a selezionare il nuovo sistema che deve che deve avere e dopo di che gli do l'ok e vedete che mi è mi si carica un nuovo layer convertito convertito che infatti se andiamo a vedere le informazioni vedete che il sistema di riferimento non sarà più il 3 3 3 come quello di prima ma sarà il 4 3 2 6 ugge il 64 geografico e vediamo qua che l'unità di misura di questo layer non è più il metro ma il grado quindi se facciamo se lo utilizziamo per calcolare aree e lunghezze avremo un risultato in gradi assolutamente inutile ma questo è e questa è la differenza tra la la funzione dello psicologo che dicevo prima che è questa della sorgente con il sistema di riferimento assegnato in cui vado a definire qualora il layer non ce l'avesse mentre tasto destro esporta riusciamo a convertire un sistema da un sistema di riferimento a un altro utilizzando che cosa utilizzando le librerie proj e gli epsg presenti dentro il database di qgis dentro proj quindi andando ad utilizzare gli stessi parametri che poi vengono utilizzati per le conversioni al volo per le riproiezioni al volo andando ad introdurre degli errori che poi andremo a vedere meglio con Stefano quindi qui abbiamo visto come si gestisce la questione il sistema di riferimento di un dato se andiamo a vedere nelle proprietà del progetto non del layer ma del progetto ci ritroviamo con una finestra abbastanza simile e vedete che abbiamo proprio una finestra che si chiama SR dei sistemi di riferimento da qui si gestisce il sistema di riferimento del progetto vedete che adesso in basso a destra c'è il 3003 anche se ho dati in sistemi di riferimento diversi perché abbiamo il 4326 che viene riproiettato al volo nel nel 3003 e viceversa qui posso andare a cambiare il sistema di riferimento del mio progetto e metterlo in 4326 vediamo cosa succede vedete che si distorce un po' ma basicamente anche il mio layer in 2003 viene riproiettato on the fly sulla sulla mia posizione corretta appunto scelta dalle proprietà del legno nelle impostazioni invece del progetto abbiamo di QGIS scusate non del progetto nell'impostazione di QGIS nelle opzioni abbiamo invece le impostazioni generali del nostro software abbiamo anche qui la nostra finestra sistema di riferimento e qui vedete che possiamo mettere la spunta per usare il sistema di riferimento preferito quindi può essere 4326 può essere qualsiasi altro sistema da PSG lo troviamo sempre sempre nello stesso modo che cosa vuol dire che quando io apro QGIS mi imposta quelle determinate PSG e ogni layer che io carico nel mio progetto che ha un sistema di riferimento diverso viene riproiettato al volo nel sistema di riferimento che ho predefinito se invece lasciamo l'impostazione di default uso il sistema di riferimento dal primo layer aggiunto è quello che abbiamo fatto prima abbiamo visto che appena aperto QGIS c'era il 4326 appena ho caricato il layer in 3003 in automatico il progetto ha preso il sistema di riferimento del primo layer aggiunto mentre il sistema di riferimento per il layer sono i sistemi di riferimento predefiniti quando andiamo a creare un nuovo un nuovo layer queste sono le tre aree che ci permettono di gestire i sistemi di riferimento in QGIS quindi abbiamo i sistemi di riferimento del layer il sistema di riferimento del progetto e le opzioni generali di QGIS che in quegli diciamo come lui deve comportarsi in un sistema o l'altro ricordatevi sempre che dobbiamo se vogliamo fare delle misure ottenere delle misure metriche dobbiamo utilizzare che cosa dei sistemi di riferimento proiettati mentre se utilizziamo un sistema di riferimento geografico le misure saranno in gradi e quindi un po' difficili da gestire se adesso andiamo a prendere per esempio una funzione come c'è il processo del buffer e andiamo a prendere il layer veneto se io qui metto 100 vedete che l'unità di misura qui di default è il metro oppure posso chiedere il chilometro piedi miglia yard eccetera viceversa se invece di prendere questo layer in 3003 andiamo a prendere lo stesso layer con 4326 vedete che la distanza rimane 100 ma qui ho un alert gigantesco che è il grado quindi se io lancio questo geoprocesso con la richiesta di fare un buffer di 100 gradi mi porto ovviamente a un risultato erroneo che infatti vedete 100 gradi qual è il risultato assolutamente ingestibile o comunque se non ingestibile totalmente errato rispetto ai 100 metri che volevo ottenere ottenere prima nelle proprietà del progetto appunto abbiamo mi sono dimenticato di farvi vedere prima nella finestra generale anche la possibilità di impostare le unità di misura per le distanze secondo l'elissoide quindi possiamo scegliere l'elissoide di riferimento e l'unità di misura se vogliamo i metri o i chilometri millimetri centimetri gradi eccetera e lo stesso vale per le aree e lo stesso anche per le per le coordinate la visualizzazione di coordinate in gradi che possiamo decidere se essere gradi decimali gradi minuti gradi minuti e secondi come le mappe dei pirati queste funzioni in realtà ce le troviamo poi comode perché andando a impostare invece che i metri i chilometri poi i nostri geoprocessi avranno di default il chilometro e soprattutto quando andiamo per esempio faccio questo esempio poi passo la parola a Stefano per la parte conclusiva adesso andiamo vado a creare un nuovo layer temporaneo me mettiamo VGS 34 mi piace una linea fiume Pablo perché abbiamo appena dedicato un fiume al nostro Paolo da Bove mettiamo un campo lunghezza 1 decimale ok e poi mettiamo lunghezza 2 sempre decimale e andiamo a disegnare il nostro il nostro fiume che passa per la provincia di Vicenza la provincia di Padova Venezia e bocca direttamente in laguna a questo punto noi possiamo andare a calcolare la lunghezza di questo di questa linea aspetta che la metto di un altro colore così la riusciamo a interpretare meglio rossa si vede di più si vede forse peggio di prima a questo punto posso andare a calcolare la lunghezza del nostro del nostro layer attenzione il nostro fiume Pablo è in ha un sistema 4 3 2 6 geografico quindi l'unità di misura sarà il grado ma quando noi andiamo scusate nel nostro calcolatore di campi e gli diciamo di calcolare la la lunghezza 1 possiamo andare ad utilizzare la funzione geometria la funzione geometria della lunghezza in questo caso che voglio utilizzare è il dollaro e attenzione andiamo a leggere che come dice questa funzione restituisce la lunghezza di un elemento lineare e la lunghezza calcolata da questa funzione rispetto alle impostazioni dell'elissoide e delle unità di misura del progetto corrente ovvero dell'elissoide VGS84 e l'unità di misura del progetto che è quello che abbiamo visto prima che era in metri ok quindi se io qui vado a inserire dollaro length e gli do l'ok avrò una lunghezza in metri anche se il nostro layer è in 4326 perché la funzione dollaro utilizza le misure secondo l'elissoide e nell'unità di misura del progetto se invece vado a calcolare la lunghezza 2 come geometria aspetta eccoci qua length vedete che la sintassi è leggermente diversa quindi mi chiede di calcolare la lunghezza di che cosa devo andare a dire di che cosa della mia geometria con questo caso quindi la lunghezza della geometria del fiume potevo anche scegliere una geometria specifica all'interno ma in questo caso andiamo a prendere ce n'è una quindi facciamo presto se io gli do length geometry oi perché aggiorna campo ah giusto grazie scusate aggiorna campo lunghezza 2 gli do l'ok e vedete che qui invece ho una lunghezza espressa in gradi voglio avere la prova uso lo strumento misura i metri abbiamo detto adesso più o meno ricalco il nostro il nostro layer arrivo fino a qui vedete che ho questi 109 mila metri se vado a vedere la traverete minuti è 108 avrei più o meno cliccato in posti simili se invece dell'interno di misura metri gli dico oh ho sbagliato un nuovo se gli dico di misurarmi questa lunghezza in gradi vedete che ho 1,2 gradi se andiamo a vedere la nostra altra media di attributi vedete che è 1,2 gradi quindi effettivamente per un calcolo col dollaro abbiamo utilizzato abbiamo misurato secondo le lisoide le unità di misura del progetto mentre senza la funzione dollaro abbiamo utilizzato abbiamo calcolato la lunghezza planimetrica nel sistema di riferimento del layer se questo layer fosse stato in in un in un sistema di coordinate metriche avrei avuto sempre una lunghezza in metri domande e dubbi per prestità crisi esistenziali su questo è abbastanza chiaro un paio di domande allora Massimo chiede perché all'inizio avevi scelto l'elissoide l'UGS84 con codice 7030 credo che sia quello standard di default quello standard di default poi l'altra domanda è se è un mercatore sì avendo dei dati leader in 4326 per ottenere coordinate cartesiane è obbligatorio fare una conversione tramite i grigliati allora i grigliati Pablo aiutami i grigliati si usano quando cambia l'elissoide dico bene? esattamente occhio solo una cosa che non so se intende coordinate cartesiane o cartografiche perché le cartesiane sono le XYZ grandi riferite al centro di massa della Terra mentre le cartografiche sono l'est e le nord sei un pistino ovviamente era quello che va bene nel senso hai ragione hai ragione però è solo per una questione hai ragione nel senso che di per sé tu usi i grigliati quando cambi un sistema di riferimento quindi quando cambia un elissoide e o quando vuoi convertire un'altezza se cambi tipo di coordinate ma rimani nello stesso sistema di riferimento non è necessario ok se invece mantieni le stesse tipologie di coordinate ma cambi sistema di riferimento ovviamente serve cambiare serve utilizzare i grigliati ok sì Giuseppe chiede invece se è possibile fare un esempio di buffer chiaramente le lunghezze misurate sono lunghezze proiettate e non reali giusto sì cioè quindi volevi vedere un'area anziché anziché una una lunghezza non l'ho capito ho capito chiedo scusa Giuseppe ma credo di non aver capito che cosa un esempio di buffer cioè per calcolare l'area del buffer non sì fai fai il buffer di quello ma del 3003 cosa del ah ecco sì era il dibattito con nelle PSG 32632 cioè quello proiettato l'area planimetrica non si calca con area della geometria mentre con dollaro aria si ottiene quella lì su idica e la cosa è la stessa come come per la lunghezza assolutamente comunque nella descrizione c'è del queste funzioni c'è scritto tutto io una cosa che volevo accennarvi solo è con i vettori è tutto per virgolette semplice quando andiamo invece a parlare di raster qui le cose si fanno più complesse perché la trasformazione implica anche uno stretch nei pixel e quindi dobbiamo stare attenti e scegliere anche che tipo di algoritmi utilizzare per le riproiezioni quindi state attenti soprattutto con i raster continui che a cui dovete prestare un'attenzione particolare perché la dimensione del pixel può variare poi se lavoriamo con dati globali ricordatevi che i pixel possono avere poi misure diverse in funzione se sono vicini ad equatore o lontani quindi state attenti a queste conversioni con i raster che sono un po' più tricky e le librerie digital però vi permettono di impostare bene tutti questi parametri sì Carmelo chiede come quale parte di QGIS si può fare un sistema di riferimento personalizzato bisogna andare nella impostazione in basso a destra vabbè uguale ci dovrebbe essere o nessun sistema di coordinate oppure vai sotto e te ne crea una aspetta te lo sposto l'ultimo alla fine al fondo proprio al fondo proprio dell'elenco sistema riferimento del coordinato predefinito vai proprio al fondo prova a cliccarci sopra quello che si metta lì no non l'ho mai fatto devo dire anch'io non l'ho mai fatto posso non dare a adesso me lo guardo mentre che fai tu la presentazione stefano poi andiamo a rispondere a questa cosa ok massimo dice più gradi con la planimetrica ok maria dice quindi ricapitolando su quanto esposto prima paolo dovendo fare un lavoro di analisi estremamente localizzata grandissima scala mi conviene utilizzare un sistema di riferimento locale tipo montemario giusto mi nel senso mi allora un conto se usiamo un sistema locale che ci definiamo noi e allora può avere per dire se devo tracciare un'infrastruttura ad esempio un tratto di autostrada allora scelgo un sistema isometrico quello davvero un sistema locale se io devo invece analizzare o produrre cartografia a grandissima scala comunque e lo devo fare per un ente pubblico io devo essere coerente con la normativa vigente e quindi utilizzare le trf 2000 all'epoca 2008.0 proiettandola poi ad esempio con la proiezione utm però tendenzialmente il suggerimento che io mi permetterei di darvi è di dimenticarvi di roma 40 e di montemario sì direi di sì ok mentre rispondo alla domanda di prima dalle impostazioni proiezioni personalizzate da qui possiamo andare ad aggiungere un nuovo sistema di riferimento che chiameremo Pablo 2020 richiede appunto un sistema o un formato VKT o ProJ si impostano i parametri e poi ce l'abbiamo nel nostro nel nostro elenco di 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 riferimento ok ci sono altre domande oppure possiamo ok allora facciamo vedere quest'ultimo pezzo aiuto condivido avvio condivido lo schermo block ok allora quale faccio vedere direi di far vedere il 2 questo condividi vedete lo schermo sì sì ok allora quello che abbiamo provato a fare insieme a Pablo e Federico è una prova di conversione di sistemi di riferimento passando da un 3.3 ad un ad un ad un sistema etrf 2000 quindi tutti e due proiettati usando diversi tipi di 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 software allora il il software di riferimento per la conversione delle coordinate come software in vero stand alone desktop è di fatto il convergo che è una versione di del vecchio cartlab sempre fatto dall'ingegner Virgilio Cima che nelle due versioni in due versioni che permette di appunto utilizzare le le formule di conversione che ha detto Pablo utilizzando anche i grigliati ufficiali dell'IGN Allora per fare una prova e vedere l'ordine di grandezza ma così giusto proprio per vedere di cosa stiamo parlando ho creato vedete qua un seminato di punti siamo in Piemonte quindi vedete ortofoto siamo credo a Venaria un seminato di sei punti in coordinate 3000 3003 ok guardate metto anche proprio giuste le coordinate proprietà proprietà mettiamo il 3003 e siamo a Dama ok va bene allora questo questo il questo questo vettore l'ho all'inizio eccolo qua vedete qua questi sono già i risultati ma lo facciamo tanto e velocissimo insieme l'ho fatto prima utilizzando il semplice come ha fatto vedere prima Federico esporta salva con nome salva elementi come e dandogli come riferimento di uscita di uscita il 25 832 che è l'ETRS 89 UTM32 Nord ok e quindi ce l'abbiamo tutto lì le altre due versioni che ho chiamato 3003 U8932 no grigliati e 3003 U8932 si grigliati li ho fatti con con il con il con il convergo che di cui vi ho dato copia dentro il dentro il lo zip allora ne esistono due versioni di convergo una con senza grigliati e quindi usa gli algoritmi approssimati che ha descritto Paolo mentre un altro con la possibilità di inserire avendoli comprati i grigliati dall'Igm invece un'altra versione fatta sviluppare dal dal CISIS che è il un braccio armato diciamo della conferenza stato-regioni con competenze statistiche geografiche e e informatiche ha finanziato appunto lo sviluppo con d'accordo con il con l'Igm con i grigliati embedded quindi proprio di tutta Italia già dentro allora io vi ho dato quello senza senza grigliati perché la distribuzione purtroppo è consentita solo agli enti pubblici questo è un problema non da poco perché se uno deve seguire i dettami del DM 10 novembre 2011 deve portarsi in un sistema di riferimento quello nazionale standard non si capisce perché poi la pubblica amministrazione centrale non mette a disposizione gli strumenti ma prima o poi qualche cosa cambierà allora lanciamo prima la parte quello senza grigliati eccolo qui vedete fatto da fare dal CISIS c'è tutto il manuale d'uso ok e la finestra che che abbiamo vedete si si vede perché sto spostando da uno all'altro Pablo si vede si si vede Stefano allora che cosa abbiamo è molto semplice abbiamo nella schermata sinistra il sistema di riferimento della della dell'input quindi del vettore fa anche la trasformazione delle quote elissoidiche geoidica e poi appunto elissoidica 89 geoidica oppure non modificare diciamo l'input può essere geografica TRS89 con la materializzazione TRF89 oppure Roma 40 e D50 e poi proiettate piani quindi UTM TRF89 e Grosbuog e UTM l'output ovviamente è la parte destra dello stesso si possono fare una serie di si può fare la conversione con la singola copia di coordinate si possono convertire vari tipi di vettori quindi vedete shapefile il DXF il TFW quindi workfile di riferimento di un raster non toccando il raster ma agendo solo sul TFW doppio anche degli ASCI grid il CXF il K STAL il CMF e poi un file ASCI normale CSV per esempio con le liste di coordinato quello che noi faremo appunto è adesso trasformare il seminato di punti in 2003 in UTF UTM TRF89 e cosa succede? succede che sono già dentro la possibilità di mettere anche vedete qua una serie di opzioni vedete qua solo grigliati oppure grigliati user modello di cartlab oppure in automatico e ci sono anche la possibilità di assegnare cosa molto utile il PRJ anche al vettore in uscita i file sono già tutti presenti vedete nel sistema ETRF2000 nel sistema ETRF89 nel Roma40 e nel ED50 quindi una volta una volta sono tutti editabili che sono appunto di PRJ sono dei file di testo qualunque ve ne faccio vedere uno che è quello eccolo qua vedete quindi si riconosce già questo è uno di quelli già predisposti dall'ingegner Cima e che quindi vengono utilizzati e affibbiati diciamo al layer di arrivo vedete mi dice che questo è un ETRS89 UTM32 poi ci sono tutti i parametri Sferode Vistode ETRS tutti i parametri eccetera che ovviamente io così a naso non saprei dirvi che cosa che cosa siano quindi a proposito mi riferisco alla domanda di prima quando si crea un sistema di riferimento di riferimento locale diciamo personale insomma bisogna andarci un po' bisogna sapere quello che si fa ecco io non sono assolutamente lo ammetto senza vergogna non sono in grado di non ho la confidenza con i sistemi di riferimento tale da scrivere un sistema un sistema di di coordinate del mondo allora a questo punto noi gli diciamo che vogliamo selezioniamo il file d'ingresso che è quello che abbiamo chiamato 3003 vedete posso metterne altri so in partenza che era un Gauss che non era che il Gauss Boaga la quota non mi serve e siamo nel Fuso Ovest perché siamo in Piemonte e lo voglio in arrivo con coordinate piane ETRS 89 nella realizzazione ancora materializzazione ETRS 89 nel Fuso 32 a questo punto lui fa converti lista file quindi lui lo converte aspettate che lo metto riposta sì ok lo mette di tanto ok e lo fa perfetto stefano probabilmente aperto in QGIS eh giusto 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 ah sì lo stava segnalando anche Antonio ah scusate vedete eh torniamo a convergo proviamo a farlo ok mi avverte che le trasformazioni planimetriche sono avvenute in assenza di gridati perché non ci sono vedete qua che uno dei elaborato un file vedete qua che mi chiede anche dove sono i grigliati quindi in quale in quale cartella in quale cartella sono eh dico anche per chi gioca con il catasto si possono fare anche dei delle trasformazioni catastali ci sono qua delle le grandi origini ci sono delle grandi origini già inserite e quindi appunto si possono anche giocare su questo in Piemonte direi che servono poco perché ce ne sono talmente tante che non allora il risultato questo è il primo adesso apriamo invece quello con i grigliati questa è la schermata vedete mi dice già un disclaimer grande come una casa viene corredata con i grigliati GM di tutta Italia viene reso disponibile dalle pubbliche alle pubbliche amministrazioni che possono cederlo a terzi solo e limitatamente nell'ambito di incarico appanti per attività riferite all'APA quindi io accetto le condizioni d'uso e lo apro come vedete è assolutamente identico se non il fatto che c'è il marchio anche dell'Igm ma quello che avviene è che la novità è c'è una nuova la novità è che vedete come coordinate c'è anche il sistema TRF2000 perché è più nuovo ma direi che per i nostri scopi TRF2000 e TRF89 sono abbastanza assimilabili e quindi con la stessa con la stessa con la stessa procedura ho fatto l'evoluzione la 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 trasformazione e a questo punto inserisco il nuovo così impostazione così siamo i tre dati e così vediamo quello che quello che viene fuori ok allora sistema dove si è un riferimento cosa è il primo l'ha fatto lui l'ha fatto prima ok mettiamo no no che succede eccolo qui nuovo è sempre 3003 ah ma duro ok 3003 allora inseriamo il primo dei nostri tutti e tre i file che abbiamo convertito eccoli qua allora il primo è questo e lo aggiungiamo poi il secondo è no grigliati quindi trasformato con convergo senza l'ausilio di grigliati aggiungi l'altro è si grigliati cioè scusate QGIS quello quindi fatto con semplicemente salva con nome l'ha aggiunto vedo sì mentre l'ultimo è quello che abbiamo chiamato si grigliati che ho chiamato si grigliati se l'ha aggiunto si grigliati e da ultimo metto anche perché mi è sembrato più comodo usare anche questo perché li ho fusi allora che cosa abbiamo allora a questo punto siamo nel sistema di partenza 3003 che era questo ok questi punti qua ecco di qui scusatemi no non il fuso scusate questo che mi devo far vedere vedete sono sei punti ho riportato qua le coordinate originali in 3003 ed è quello da cui siamo partiti ok a questo punto mi riporto invece sul sistema di riferimento 25832 che è quello di arrivo che abbiamo che ho utilizzato quindi gli dico che voglio andare nel sistema del progetto è le TRS89 valido per il fuso 32 applica ok e ho i punti eccoli qua 1 2 e 3 allora cominciamo a dargli un'occhiata prendiamone uno e vedete che adesso siamo in scala 1 a 168 vedete che i punti non sono non cadono tutti dove dovrebbero cadere allora se accendo il 3003 diciamo il punto il punto originale vediamo di simbologia si vede eccolo qui cade più o meno in corrispondenza di quello cambiato con con QGIS ma quello che allora a questo punto a noi interessava sapere è quanti erano le distanze le mutue distanze fra i punti perché vedete qui abbiamo diminuisco la scala vedete che più o meno non si vede ancora ma sono tutti clasterizzati i sei punti intorno ad ognuno dei sei punti ci sono poi i punti che vengono che sono stati poi riproiettati allora per fare per fare questo ho rinominato ho dato un identificativo di riferimento a tutti i punti eccolo qua quindi il punto 1 vedete che deriva dalla trasformazione senza grigliati trasformazione con QGIS e trasformazione con grigliati gli ho dato uno no uno QGIS e uno sì eccetera eccetera e poi ho calcolato la matrice delle distanze in maniera molto semplice attraverso il modulo di saga point distances lo possiamo rifare dal vivo ok ho usato questo l'identificatore è il nome così ce l'ho non ho punti vicinozionali nessun altro voglio una 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 matrice completa mettendo praticamente tutte le distanze eseguo e se non si incarta ma non si incarta crea un dbf eccolo qui che mi dice che apriamo eccolo qui che è proprio una matrice allora possiamo mettere in ordine di punti è una matrice quindi la distanza del punto 1 senza grigliati da se stesso ovviamente è zero quindi lo leggiamo in verticale vedete che la distanza fra il punto con i grigliati è il punto con senza grigliati di 74 cm il punto la distanza del punto senza grigliati con quello di QGIS è un metro e sessanta e così via vedete che poi ovviamente ha senso guardarli solo a gruppi di tre no ovviamente perché poi la matrice è completa e quindi il punto 1 viene anche misurato la distanza col punto 5 che non ha senso ma quello che mi premeva farvi vedere è che come dire siamo dell'ordine in questo caso di un metro e sessanta un metro e mezzo poco più vedete poco più poco meno un metro e cinquanta insomma siamo dell'ordine del metro e mezzo in questa situazione di Venaria quindi io come dire potrebbe essere chiedo chiedo poi a Pablo un'analisi un po' più sicuramente scientifica ma voglio dire rispetto a quello che rappresentano questi punti che potrebbe essere cosa ne so l'etichetta un'etichetta l'ubicazione di un'etichetta oppure il rendere il rendere puntuale un seminato di poligoni che rappresentano per esempio le scuole a questo punto che il punto sia a un metro un metro e mezzo basta che non cada fuori voglio dire chi se ne importa però come dire quello che conta è che si vede che utilizzare i grigliati o meno e utilizzare anche il la il salva il salva con nome diciamo di di QGIS provoca introduce degli errori di cui è assolutamente necessario rendersene come non so non abbiamo detto prima ma in QGIS si può solo inserire i grigliati sicuramente nel formato IGB e credo anche nel formato NTV2 in modo tale che questa proiezione al volo che fa QGIS attraverso le librerie progei possano essere utilizzate anche quindi la proiezione al volo è al volo sì ma fatta con sicuramente con maggiore precisione stessa cosa nel se avete presente in nelle librerie GDAL c'è la possibilità di trasferire di converti formato vedete qua ti chiede qual è non in questo ma nell'altro insomma in uno di quei in quelle librerie di GDAL che ti permette di proiezione eccolo qua per esempio ti permette di giocare sui sistemi di riferimento anche qua si può dare non via 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 finestra grafica ma sicuramente attraverso stringa linea di comando oppure inserire qua anche il comando vedete si possono mettere anche la posizione dire dov'è la posizione dei grigliati che vogliamo usare in modo tale da utilizzare anche i grigliati e una questa è da qualche parte perché l'ho usato per la riproiezione dei file della di Agea adesso non mi ricordo dove sia descrizione vabbè poco importante comunque si possono usare anche con le librerie GDAL le le lascerei a Pablo se ha voglia di fare un commentino su questi su questi risultati se 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 si possono fare insomma oppure se avete domande io non vedo avete domande su su questo ecco allora Stefano prima ci sono un pochino di domande se si si se hai voglia no se riesco quello sicuramente proviamo dunque me ne sono stavo ritornando di indietro perché c'è stato un po' di scambio di insomma di commenti allora ritorno un pochettino indietro c'era il discorso del WMS dell'agenzia delle entrate 25832 25833 Federico ha inserito in chat il blog di Totò Fiandaca ok eccoci qua allora la prima domanda alcune ha già risposto Federico Daria chiede volendo spronare una pubblica amministrazione richiedere il rilascio della versione convergo con i grigliati cosa consigliare contattare il CISIS via email o ci sono procedure più standardizzate allora lì c'è anche una mancanza di comunicazione molte pubbliche amministrazioni non sanno che esiste convergo ok diciamo che purtroppo si è fermato a livello regionale la diffusione del software purtroppo quello che stiamo facendo sia come io per chi non lo sa lavoro al settore cartografico di regioni Piemonte quindi sia a livello di CISIS e di regioni stiamo cercando di come dire di mettere giù un 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 tavolo di lavoro insomma arrivare a cercare di portare i GM verso appunto la liberalizzazione ci stiamo provando una cosa che vorremmo fare anche come associazione questo c'è un problema non è banale ma insomma costano i grigliati credo che sia il taglio del 50.000 dimmi se dico una stupidaggine quindi sono un bel po' almeno in Piemonte in tutta Italia e li vende e l'Igm essendo una pubblica amministrazione che non fa parte della 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 cioè fa parte del Ministero della Difesa e quindi facendo parte del Ministero della Difesa non segue il codice di amministrazione digitale e quindi il discorso di open data e cose del genere lo segue fino a un certo punto quindi liberalizzare i grigliati significa un mancato introito e giustamente voglio dire ci devono essere delle azioni legislative affinché si passi da guadagno io non so quanti ne vendano ormai all'anno è per carità però come dire uno potrebbe anche dire ma scusate fra l'occhio sulla chat mi è venuto ma comunque ho mancato e ho mancato ingresso e quindi potrebbe essere anche danni a variare quindi bisogna andarci con i piedi di piombo certo che sono passati tanti anni dalla riuscita del DM e francamente non ce ne vedo ecco poi c'è una domanda di Alessandro che era leggermente precedente a questa ma che ho recuperato solo ora chiedeva buonasera forse una domanda un po' strana diceva lavorando in campo con un database PostGIS in 7792 RDN 2008 con Qfield connesso a un GNSS esterno quale sistema di coordinate viene salvato? avviene una trasformazione automatica devo farlo in un manuale in seconda fase allora bisogna sempre capire che cosa si sta facendo cioè in teoria tutte le volte che noi acquisiamo un dato dovrebbe essere specificato come lo stiamo acquisendo e quindi in quale sistema di riferimento teniamo presente che se lo acquisiamo con un GNSS esterno utilizzando ad esempio una rete di stazioni permanenti chi materializza il sistema di riferimento è la rete di stazioni permanenti stessa perché ci invia le coselezioni differenziali in quella in quel sistema di riferimento quindi bisogna prestare molta attenzione nel senso che se ciò è coerente con il tuo database PostGIS non ci sono problemi in caso contrario ovviamente quello che tu salvi è un risultato in un altro sistema di riferimento che devi poi trasformare per renderlo coerente in realtà abbiamo visto che le differenze magari ad un primo impatto ad occhio potrebbero non essere così evidenti però da un punto di vista numerico per essere precisi bisogna far sì che che tutto sia coerente nello stesso sistema di riferimento quindi se non lo fai in cioè se non è esattamente lo stesso sistema di riferimento in tempo reale devi fare una riconversione in seguito usando come ti ha fatto vedere Stefano convergo e quindi anche i grigliati poi vado scendo un pochino giù Nicola chiede i grigliati GM per la trasformazione di questo programma sono i GK2 sì ok poi non c'è un software dimmi scusami Stefano no 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 scusami dicevo c'è una domanda di Nicola che dice non c'è un software libero come questo da utilizzare con new linux che si aggancia alla domanda di Matteo Ricetti che dice seguo perché io uso Mac credo farò conversione da QGIS doppiando layer applicando sistema di riferimento corretto allora per quanto ne so io non esiste una versione linux di convergo no 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 e nemmeno per Mac occhio a Matteo perché il fatto di fare la conversione da QGIS doppiando layer applicando il sistema di riferimento corretto non vuol dire fare quello che sta facendo con vergo e quindi è un altro approccio poi per carità in mancanza di altro va bene quello forse se uno vuole essere rigoroso conviene capisco che è un po' magari un po' oneroso ma installarsi una macchina virtuale direttamente su un sistema operativo una macchina virtuale Windows per poterlo utilizzare o utilizzare un'altra macchina che abbiamo Windows montato installato sopra per poter fare le conversioni in maniera tra virgolette corretta l'alternativa può essere quella che suggeriva Federico in chat ovvero usare i sistemi di conversione del geoportale nazionale o inserire i grigliati avendoli all'interno di QGIS oppure seguendo quello che aveva che ha postato sempre Federico nel blog di Totofiandaca usando i grigliati NTV2 con l'accortezza che come ci diceva Antonio Soriano gli NTV2 convertono solo la parte planimetrica quindi per la parte altimetrica è necessario verto o convergo poi c'era un commento di Simona che diceva scusate ma allora QGIS opera una riproiezione migliore rispetto a convergo con i grigliati in realtà in realtà dipende cosa vuol dire migliore cioè quella ufficiale è quella di convergo o verto e l'utilizzo dei grigliati dopodiché uno può avvicinarsi un po' di più o un po' di meno come ci ha fatto vedere Stefano ma da un punto di vista anche chiamiamolo procedurale per non dire legale l'unica tipologia di conversioni ufficiali è quella che ci ha mostrato Stefano con l'utilizzo dei grigliati Dante chiede il convergo con i grigliati come si acquista non si può acquistare non si può acquistare si può avere in uso se sei la pubblica amministrazione lo chiedi al CISI se loro te lo mandano se invece sei un professionista che opera per la pubblica amministrazione lo chiedi lo chiedi e loro te lo danno purtroppo non è in vendita poi c'è Massimo che dice Stefano perdonami graficamente mi era perso che la conversione con QGIS fosse quella più corretta mentre da matrice non era così però gli attributi non mentono lo rimetto lo ricondivido condivido di schermo il 2 sì questa era la matrice e come come diceva Paolo cioè bisogna capire qual è il il cosa si intende per giusto non so se 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 mi sono spiegato voglio dire mettiamo solo anche solo le le label così sappiamo di chi stiamo parlando simbologia etichette mostre etichette etichetta singola di name ok allora facendo nel sistema 25 832 e quindi come dire riproiettando e accendendo il il 3003 sembrerebbe che il 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 punto di partenza 3003 e col punto di partenza col punto di arrivo di QGIS siano gli stessi ok però come dire c'è coerenza fra il prima e il dopo in QGIS ma se tutta quella la teoria di cui ci ha parlato Paolo è corretta e teoricamente il punto vero è qui dico bene Paolo esattamente esattamente cioè bisogna capire chi è giusto se il i geodetti ci dicono che è giusto usare il grigliato e bla 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 il punto dovrebbe essere qua non qua esattamente il problema grosso secondo me lo si può sdoppiare in due parti una coerenza intrinseca tra quello che noi stiamo facendo cioè se noi utilizziamo sempre QGIS per un rilievo che vogliamo convertire la procedura è consistente al suo interno ma errata da un punto di vista globale perché stiamo andando a finire in una in uno spazio che non è quello che ci aspetteremo o quello che è il risultato finale che dovremmo ottenere ma c'è una coerenza al suo interno da un punto di vista quindi è lecito fino a un certo punto cioè fino nel momento in cui noi vogliamo analizzare la coerenza intrinseca del rilievo quando vogliamo andare a vedere come il rilievo si colloca rispetto al mondo esterno ovviamente stiamo facendo un qualche cosa che però è errato sia da un punto di vista proprio della sua collocazione spaziale sia dal punto di vista procedurale per cui se doveste scrivere una relazione dicendo ho fatto dico QGIS ma potrebbe essere qualunque altro software GIS che non sia convergo con i grigliati crea qualche problema forse questo è il punto più più delicato della 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 cosa ecco certo perché se voi avete dieci punti in che ne so in 25832 e li volete convertire in 3003 usate QGIS per dire con l'OTF la loro distanza in 25832 sarà la stessa in 3003 ma in realtà la loro collocazione spaziale rispetto a un omino che vi sta guardando dalla luna sarà diversa tra quella che farete in QGIS e quella che avreste dovuto fare se aveste utilizzato convergo con i grigliati che è quello che stiamo vedendo adesso esattamente c'è poi una domanda di Luca che dice se un DEM il sistema di riferimento di origine del layer limita l'intervallo minimo tra curve di livello generabili ad esempio se un DEM ha 5 metri risoluzione orizzontale il sistema di riferimento del layer incide sul poter esagerare o meno la distanza tra le curve non ho mica capito se un DEM è in realtà in realtà no nel senso che se ho colto bene la domanda poi Luca se vuoi intervenire anche tramite microfono sì sì ormai siamo alla fine quindi il discorso è nel momento in cui tu hai un modello digitale del terreno la risoluzione è quello che la fa da padrone se hai un DEM a 5 metri fare delle curve di livello a 20 centimetri a mio parere non ha alcun senso perché tu stai andando a sottocampionare a un qualche cosa che in realtà non hai e questo è indipendente dai sistemi di riferimento perché tu stai prendendo delle celle in realtà le stai un po' stirando e spostando da un'altra parte ma sempre a 5 metri restano sì aggiungo la novità è in test la nuova versione di convergo con i grigliati che fa anche lo spostamento della conversione di sistema anche dei raster con questi problemi di cui parla Pablo e cioè con lo stiramento il rubber sheeting della 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 cella con il problema di ricampionamento e per un DEM potrebbe anche essere potrebbe essere teniamo presente che il ricampionamento è una cosa che è tra virgolette dannosa e che va ad inficiare ulteriormente i problemi tra errate trasformazioni dei sistemi di riferimento cioè un conto è sbagliare a convertire un dato da un sistema di riferimento all'altro in più se stiamo facendo una conversione di un modello digitale del terreno o di un ortofoto andiamo a peggiorare ulteriormente questa informazione quindi un conto è l'informazione puntuale il dato vettoriale come ci faceva vedere adesso Stefano dove hai un problema di collocazione errata nello spazio se usi un modello digitale del terreno o un ortofoto non solo hai un'errata collocazione spaziale ma rischi di avere anche un ricampionamento e quindi un ulteriore imprecisione dovute a queste trasformazioni c'è Massimo che diceva dormirò comunque sonni meno tranquilli ecco quello non era non era l'obiettivo visto che è un venerdì sera quindi per carità Dante invece dice in pratica non vi è shift dal dato geometrico quando riproietto internamente a GIS in realtà sì nel senso che l'interdistanza tra due punti è fatta con QGIS non ti crea una variazione rispetto a quella originale ma te la shifta tutta di una certa quantità Francesco invece chiede quando sarà disponibile la registrazione di questo incontro allora come associazione gfos.it stiamo mettendo in piedi un canale dell'associazione dove appunto come diceva Federico verranno rese disponibili le registrazioni non solo di questo webinar ma anche di tutti quelli precedenti e quindi quelli dell'anno scorso sono già disponibili eh sì quelli diciamo della prima nella prima parte del 2020 dell'estate 2020 sono già disponibili io adesso scusate intervengo per perché mi fa un po' ridere che adesso si dice che non dormiremo più sorni tranquilli dopo aver visto queste queste distorsioni in realtà possiamo anche andare a tranquillizzare che la maggior parte delle volte dobbiamo anche capire con che scala di lavoro stiamo stiamo andando a operare ovvero se io sto lavorando per una cartografia escursionistica che sarà stampata al 25.000 vuol dire che un millimetro sulla carta sono 25 metri se io ho il trazzato che è spostato di un metro un metro e mezzo tre metri all'interno di questa cartografia di 25.000 è assolutamente influente eh agli scopi poi finali del mio del mio lavoro anzi aggiungo che probabilmente è più grande l'errore del gps che ha tracciato quel percorso a piedi del sentiero rispetto che ha all'errore di conversione poi non so Pablo se sei d'accordo fino in fondo con questa mia ultima affermazione però sì sì sono d'accordo cioè bisogna sempre capire qual è l'obiettivo e quali strumenti abbiamo a disposizione dall'altro canto è inutile andare a cercare di spaccare il millimetro magari utilizzando degli strumenti GNSS che costano parecchi soldi in una maniera diciamo più accorta possibile se poi quello che facciamo è andare a effettuare un'errata conversione di coordinate perché tutta la precisione che stiamo cercando da una parte la perdiamo poi dall'altro bisogna sempre essere coerenti con quello che si fa tenendo sempre presente che l'obiettivo è la parte fondamentale del lavoro cioè non andare a spaccare il capello se costruiamo una casa dall'altra parte non andare a collocare la casa in un altro luogo rispetto a quella che vorremmo che fosse rispondo ad Antonio che mi chiede ma quanto fattura in media all'anno i GM per i grigliati allora quello che vi ho raccontato è come dire la presa di posizione ufficiale dell'istituto a seguito di un'interrogazione parlamentare da parte di non ricordo quale 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 gruppo di di deputati che chiedevano appunto al in commissione difesa chiedevano avevano chiesto un'audizione all'istituto proprio perché c'era la richiesta da parte della società civile diciamo professionisti eccetera non solo di grigliati ma l'oggetto del contendere era più che altro il database della toponomastica di quella di quella che è anche quella i GM l'istituto e quindi quando ero presidente dell'associazione GFOS siamo stati invitati appunto come rappresentanti della società civile come si suol dire per dare il nostro punto di vista e spiegare perché effettivamente questo tipo di informazioni era fondamentale che fossero rese disponibili al pubblico quindi io sono andato e ho raccontato questo sono poi arrivati gli atti finali della poi della dell'audizione vera e propria dell'istituto il quale ha detto quello che vi ho detto uno il CAD esclude il ministero della difesa dagli obblighi dell'open data eccetera eccetera e quindi il fatto che si vendono una legge deve essere cambiata con una legge che quindi loro non possono come dire il direttore il generale comandante dell'istituto non può sponte sua cambiare dire boh da domani ci vuole un intervento un intervento legislativo poi io credo legge con legge però insomma voglio dire credo che spazio per poter fare un cambio di normativo ce l'è sicuramente non credo che ormai sia più una questione di che con quello che arrivano con quello che arrivano dalle vendite come dire mandano avanti l'istituto non credo però ci siano dei vincoli purtroppo formali e voglio dire il problema del danno erariale insomma per quanto limitato capisco che sia una preoccupazione non credo che ci sia i tempi del mi tengo tutto da solo e ve lo faccio vedere e non ve lo do non so Paolo scuote un po' la testa ma sono abbastanza finito sì io credo concordo concordo con te poi dopo di che ci sono delle scelte anche strategiche che sono più grandi di noi per cui ovviamente l'associazione ha tutto l'interesse del far sì che i dati vengano resi pubblici e disponibili a tutti proprio nell'ottica di quanto abbiamo provato a raccontarvi oggi dopodiché ci sono anche altri altri punti di vista che ovviamente rispettiamo e che vedremo se cambieranno in breve tempo più che fare azioni di sensibilizzazione è difficile fare ecco questo è quanto non vedo altre domande Stefano quindi io direi che intanto ringraziamo tutti voi di aver partecipato vi rinnoviamo il diciamo l'invito a seguirci non solo in questi questi seminari che speriamo che possano appunto essere interessanti e che possano esservi anche un momento magari di svago non certo formativo ma quantomeno informativo vi ricordiamo se possibile di iscrivervi di supportarci condividendo gli eventi stessi e ove possibile anche di supportarci economicamente tramite la insomma l'iscrizione alle associazioni ma se possibile anche tramite qualche piccola donazione ovviamente in funzione sempre di quello che che nelle vostre possibilità nelle vostre tutte le informazioni come dice Federico le potete trovare direttamente sul sito di gfos.it o sul sito di geam vi ricordo che il prossimo webinar non è venerdì prossimo ma sarà venerdì 29 e lo terrà Roberto Marzocchi con il titolo progetto dal progetto QG al web pubblicare le analisi territoriali con QG server e lead map e funzionalità di editing online quindi dai vi aspettiamo ovviamente per il 29 vi ricordiamo ovviamente che è sempre necessaria la registrazione ok mentre per il 29 non saranno previsti i crediti formativi professionali detto ciò ste grazie a tutti se avete i nostri riferimenti li avete se avete domande curiosità c'era ancora una domanda al volo di Dante che dice quindi se utilizzo convergo senza grigliati comunque migliore dell'OTF mi rendo conto che il mio dato geometrico rispetto al dato originale ha uno shift che faccio lo riposiziono dunque in realtà se lo usi senza grigliati è comunque migliore dell'OTF e importa direttamente quello cioè non 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 usarlo tf poi ripeto dipende anche sempre molto a quale scala stai lavorando qual è il tuo prodotto finale se la tua mappa che stai creando è una cartografia in scala 1 a 100 è un conto se è 1 a 100.000 ovviamente è tutta un'altra cosa quindi però appunto se poi avete delle domande delle sì certo se apri il dato in gisti apparirà spostato ovviamente quello sicuramente non avrai certo una coincidenza tra i due tra i due layer o tra i due tra le due entità quello sì è un conto che è un conto Grazie a tutti.